siccome il pomeriggio si annuncia a lungo io proporrei di cominciare eh chiamando intanto Fulvio Simoni a tanto a me nella sede che vorrà della presidenza perché è lui che coordinerà questa questo pomeriggio nel senso che nei nostri rapporti con l'università Fulvio Simoni che è stato affidato congiuntamente da noi dall'università il progetto Marsili eh noi che vuol dire progetto Marsili? Io sarò rapidissimo in questa mia premessa per non rubare tempo. Progetto Marsili vuol dire che ci prepariamo per tempo poi chi lo farà chi resterà lo farà per il centenario per un centenario vero è il 2030. Ora nel nel 1930 eh la celebrazione marsiliana giustamente la fece solo l'accademia non l'università perché in Marsili non ha mai insegnato all'università sapete tutto questo è un pubblico di esperti e quindi l'accademia a quel punto si fece carico di costituire un comitato scientifico dove ovviamente era anche l'università però eh condotto dall'accademia allora era più in forza l'accademia quindi ebbe il coraggio di fare questa operazione e anche di condurla a termine anche perché nello stesso anno degli anni nell'anno 1930 eh è l'ampliamento dell'accademia delle scienze la parte costruita nuova delle scienze morali non solo ma probabilmente anche dell'ingresso quindi è l'anno in cui è stata ricostruito un po' questa eh questo luogo io mh non vi leggo le cose che Perichel Educati ha detto nella prefazione nella nella cerimonia inaugurale nell'orazione inaugurale eh mi è sembrato mi sembra molto chiaro l'intento anche perché era presente la consorella totalitaria Ungheria proprio in quel momento quindi voglio dire erano due paesi anche molto vicini politicamente e Marsini viene celebrato come grande soldato per il che Ducati poi non ha non spinge fino in fondo questa questa immagine eroica anche se ne parla proprio di immagine eroica eh di eh Marsili che libera Budapest ma aggiunge anche che poi era uno scienziato nel momento in cui aveva era riposare insomma la ricreazione del guerriero e la scienza e diventa un guerriero importante uno scienziato importante questa è la linea che è stata seguita in queste celebrazioni ricche di pubblicazioni povere di fatti perché in questo vorrei dire solo una cosa ricominciò Andrea Emiliani a occuparsi di questo argomento verrà il momento in cui renderemo il debito maggio a Andrea Emiliani ma intanto glielo rendiamo già ora perché in definitiva Andrea Emiliani cominciò con una riproposizione un interesse non solo per questa sede di cui ha curato i restauri degli affreschi ma è anche la salvezza degli affreschi specialmente di quello che è qui sopra la mia testa ma anche perché Emiliani fece in questa sede la prima mostra degli strumenti marsiliani e gli strumenti scientifici. ma si sarebbe spenta l'eco subito anche dell'iniziativa di Emiliani se non ce ne fosse stata subito dopo un'altra non tanto subito dopo un po' dopo un'altra che è quella sollecitata per un verso dai giacimenti culturali finanziati dal ministro De Michelis dall'allora eh governo del paese quindi dal ministro che non era neanche il ministro della cultura ma il ministro delle finanze ma finanziò una campagna in Italia non solo a Bologna per il censimento dei giacimenti culturali qua eh l'idea di Emiliani ha fatto strada perché il rettore Roversi Monaco nel momento in cui ha voluto realizzare qualche cosa che somigliasse sopra una raccolta di materiali marsiliani ha costruito la torre libraria liberando le stanze del primo piano dai libri che la occupavano nei depositi della biblioteca universitaria è successo però dopo una cosa che eh l'idea di di Roversi è è diventata più forte quando è nata l'idea ferma di ricostituire al piano superiore l'istituto delle scienze un'immagine dell'istituto delle scienze quello che poteva essere recuperato anche in termini di materiali non solo in termini di ambienti nel piano superiore alcuni di noi che stanno in questa stanza ci hanno lavorato a lungo anzi direi che l'hanno fatto e ovviamente è una una situazione di grande di grande interesse anche è stato di grande interesse europeo ed è un patrimonio che Bologna ha recuperato pertanto credo che eh il museo che sopra di sopra eh potrà con noi partecipare alle ricerche marselliane perché lì sono i materiali marselliani così come la biblioteca ora il nostro programma io lo definirei così noi abbiamo fatto un un passo però eh credo che dovremmo fare come se fatto un po' per Laura Bassi ma ovviamente l'argomento era più semplice come non si è fatto per Galvani perché il centenario galvaniano anche questo si è tradotto solo con la pubblicazione di parecchi libri eh messi lì poi all'ultimo momento e invece occorre preparare attentamente perché poi i centenari nascono e muoiono nell'arco di due giornate se non sono preparati allora qui c'è stata una generazione di studiosi che si è occupata di Marsili prima poi ne è venuta una seconda eh studiosi di età diverse e hanno fatto cose notevolissime su Marsili da ultimo poi è venuta la costruzione del museo quindi Marsiliano e poi è venuta anche la mostra che noi abbiamo fatto e il libro che ne è derivato di una ricostruzione virtuale dei materiali mh di Marsili diffusi sparsi nei musei cittadini sono andati nei musei cittadini quando dopo l'unità d'Italia si è deciso di costituire determinati musei e quindi di alleggerire un primo alleggerimento c'era già stato quando Napoleone appunto aveva riformato gli studi sciolto l'accademia sciolta confusa con l'istituto nazionale e dunque assegnata all'università che nel frattempo veniva trasferita qua dall'archegginasio in materiali marsiliani ma questo allora noi che cosa possiamo fare a questo punto credo che dobbiamo eh creare le condizioni perché gli studi su Marsili vadano avanti e perché incominciano a preparare da ora eh eventi che si avvicinandosi al centenario si mettano già in movimento cioè che trovi in movimento questa accademia nel duemilatrenta quando ricorrerà il centenario marsiliano io credo che noi potremmo dire che questo è un momento nel quale facciamo anche un bilancio degli studi fatti con qualche novità che nel frattempo è intervenuta è molto diminuito l'interesse eh degli studiosi per questo argomento ma forse anche delle istituzioni eh d'altra parte eh e allora io credo che l'accademia possa pensare da qui in avanti di avere contributi di studio noi chiamo borse di studio vista la povertà dell'accademia ma contributi di studio per approfondire tutti gli aspetti della problematica dei materiali ma anche dei libri ma anche di quello che Marsili ha prodotto per quanto riguarda il sapere scientifico e allora ehm con l'università abbiamo stabilito di compiere insieme questo percorso il dottor Fulvio Simoni è qua per questo anche non solo per questo ma anche per questo e quindi eh io credo che mh ai sollecito presso di voi eh una visione prospettica per questi studi marsiliani non è un convegno estemporaneo è un momento nel quale noi abbiamo chiesto a chi ha studiato Marsili a chi lo sta studiando di venire da noi la professoressa Gerardi purtroppo non può essere con noi mi manda un messaggio e sapete è stata recentemente operata ora è in via di guarigione e ci augura un buon lavoro e di questo convegno che lei ritiene molto importante e molto interessante per la presenza degli specialisti ai quali lei non ha potuto unirsi io mi fermerei qui con questa premessa perché poi dopo toccherà a voi e semmai se c'è qualche possibilità alla fine dirò qualcosa in conclusione se c'è tempo perché la precedenza credo che vada data ai contributi che avete qui portato mi ringrazio per essere qui venuti grazie e il dottor Simonio ora procederà alla conduzione di questa semigiornata allora cominciamo direi perché così eh diamo spazio alle relazioni ecco a proposito di Marsili ecco è difficile anche riuscire a far capire all'interno proprio dell'università l'importanza di Marsili e certe volte anche una precisazione può sollecitare qualche domanda perché si dice mi è capitato di far notare qui a chi si occupa ehm del magazine di Unibo eh che Marsili se non ci fosse stato Marsili probabilmente anche solo l'università sarebbe all'archiginasia tanto per dire e allora da lì scaturisce qualche 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 domanda ecco qualche richiesta per lo meno di precisazione questo non per indulgere nel vittimismo ma insomma è talmente poco conosciuto come personaggio anche tra queste mura che è un po' allarmante detto questo eh io direi di cominciare subito con le relazioni allora adesso c'è Anarita Angelini io non presenterò singolarmente per non portar via troppo tempo tanto voglio dire più o meno ci si conosce Anarita Angelini che parla eh citando un po' citando molto Calvino la città invisibile e il conte di mezzato Marsili a Bologna a Bologna a Bologna buonasera a voi buonasera a chi ci ascolta da casa eh ringrazio molto gli organizzatori di questo convegno per avermi invitato credo più alla memoria che non fiduciosi che io abbia cose nuove da dire su Marsili perché tanto tempo che non lo studio ma parlare di Marsili per all'Accademia delle Scienze proprio per le ragioni eh alle quali accennavano prima sia il professor Tega sia il dottor Simoni è per me più ancora che un onore e un dovere hanno detto non saremmo qui se non ci fosse stato Marsili qui ci sarebbe un palazzo privato palazzo Poggi poi cellesi banchieri ma non ci sarebbe un palazzo pubblico ad uso del sapere e perché fu a partire dal mille settecento nove probabilmente anche prima dal mille seicento ottantacinque che Marsili concepì eh e in gran parte finanziò un'istituzione che doveva essere assolutamente pubblica e ospitare dentro il recinto di un decoroso palazzo il complesso di tutte le scienze più ragguardevoli convenevolmente attrezzate e provvedute cioè finanziate a comune beneficio dei studiosi non solo di questa nazione Bologna e lo stato della chiesa ma è zian dio delle altrui ma a dire il vero non ci sarebbero stati nemmeno il museo civico archeologico il museo medievale la pinacoteca l'accademia di belle arti se non ci fosse stato il recinto marci marsiliano perché i patrimoni costitutivi i nuclei originari di quelle istituzioni vengono da qui vengono dall'istituto di Marsili e e più ancora dentro questo stesso recinto dentro questo stesso progetto c'era anche l'istanza di collegare alla ricerca e alla formazione scientifica più avanzata nel settecento all'istituto delle scienze poi all'università anche l'assistenza cittadina agli ospedali una nuova e moderna istituzione di ricerca a beneficio del territorio questo voleva Marsili in grado di sollevare la cultura scientifica locale dallo stato di decadenza nel quale lo studio era precipitato non per caso ma a causa del governo dei mediocri chi era il governo dei mediocri un senato cittadino incolto diceva Marsili e un'assunteria di studio corrotta quelli che avevano prima il riso e poi risolto risolto a un esilio volontario ai maestri più influenti Malpighi Cassini Morgagni Guglielmini riducendo anche solo per questo e di non poco la capacità che la città aveva avuto di richiamare a sé studenti forestieri e transalpini ora se noi oggi pensiamo all'importanza che l'università e il suo indotto hanno nel contesto non solo culturale ma anche economico e civile di Bologna e della nostra regione non possiamo non giudicare attuale la convinzione che animava Marsili e per la quale si spese nell'ultimo trentennio della sua vita una città come questa diceva un piccolo con un piccolo territorio non poteva in altra forma rendersi più famosa che col mezzo della letteratura che si acquista senza l'aiuto degli eserciti o di vasti domini ma solo con l'applicazione e l'opera dell'ingegno e infatti grazie alla fondazione Marsiliana l'istituto delle scienze e alle due accademie l'accademia delle scienze l'accademia di belle arti Bologna effettivamente riacquistò rilevanza eh produsse dei risultati anche dei risultati ragguardevoli eh nel secolo dei lumi mi limitò a un nome quello di Galvani fu assunta a modello per la riforma dell'istruzione pubblica dal governo napoleonico ma soprattutto sulla falsa riga del recinto marsiliano sorsero le grandi università degli stati nazionali ottocenteschi a partire da quella di Berlino che il suo fondatore Wilhelm von Humboldt riportava proprio all'esperienza marsiliana e all'esperienza bolognese quindi è vero che che Bologna si è resa famosa grazie alla cultura e all'istruzione all'istituzione marsiliana ma contro Marsili tanto che mentre riprendeva ad attrarre studenti forestieri metteva Marsili nella condizione di andarsene via come aveva fatto Malpighi, Cassini, Guglielmini, Morgagni e altri ancora anche più recentemente dunque una relazione così paradossale quella tra la città e il suo colto benefattore che fa di Bologna e di Marsili i più protagonisti più di una pièce letteraria o di un romanzo tragicomico che di una pagina di storia locale di qui il titolo che io ho dato a questo intervento pensando al Marco Polo che visita la città sottile pensando a Venezia e al Visconte Medardo di Terralba che proprio come Marsili tornò a casa dopo aver combattuto i turchi in Bohemia e nei Balcani. Veniamo a noi. Il nome di Bologna nell'autobiografia di Marsili ricorre quattordici volte su duecentoquarantatré pagine. Sono poche occorrenze rispetto alle sessantasei di Vienna, le quarantaquattro di Costantinopoli ma anche alle trentuno di Venezio, alle venti di Roma. Si direbbe una città poco presente nella vita del conte Marsili e quasi sempre altrove. È infatti una patria distante quella dalla quale spedisce lettere, libri, materiali scientifici dai Balcani, dal Bosforo, dal Golfo del Leone, da Vienna. Oppure è una patria dalla quale è sempre in procinto di partire, di andarsene. Lo fa la riga dieci dell'autobiografia quando se ne va col padre a Venezia e poi ancora quando parte per Padova e poi tanti viaggi e di nuovo nel millesettecento nove quando annuncia gli assunti di studio di essere sul punto di abbandonare Bologna. In altri casi è una patria lontana nel tempo, quella del Magistero di Malpighi uscito dalla memoria storica in meno di cinquant' anni, diceva Marsili. Quella di una di una supremazia culturale che è rimasta un ricordo sfumato. Dunque una città remota e da remoto che le poche volte che appare in presenza per Marsili resta comunque invisibile. E così nel millesettecentocinque quando torna a Bologna dopo la capitolazione della fortezza di Breisac, la città ovviamente è sempre lì ma non è quella che lui si aspettava di incontrare e di ritrovare. L'aveva immaginata pronta ad adoperarsi con amore ammirabile a far cassare il giudizio e atto ingiusto verso un innocente, cioè a chiedere la revisione del processo che l'aveva condannato per tradimento insieme al conte Filippo d'Arco. Ciò che invece ritrova è una famiglia che non esercita le attese pressioni sul senato, un senato che non nose imporsi al legato pontificio, un papa più preoccupato dei nuovi conflitti con l'imperatore che non dell'onore del cittadino bolognese. Non è solo estraneità quella che Marsili trova ma il senso dell'espropriazione di un passato vero o ipotetico dal quale si trova a essere irrimediabilmente escluso. Quel gran bordello di palazzo come il fratello Filippo gli rimproverava di aver ridotto la casa di famiglia attrezzandola da accademia non lo accoglie ma anzi lo dichiara decotto, insolvente e non più padrone. Il segretario maggiore del senato, il drammaturgo Pieriacopo Martelli, amico di un tempo, lo ostacola da una posizione di inattesa influenza mentre il reggimento bolognese gli frappone ciurialeschi ostacoli. E c'è di peggio, Eustachio Manfredi, lo scienziato con il quale aveva lamentato la decadenza dello studio e condiviso negli anni giovanili un programma di rilancio della cultura scientifica colui al quale aveva inviato in consegna libri e strumenti dalle campagne militari e dai suoi viaggi lo ritrova a flertare col senato e col reggimento pur di incassare sproporzionati stipendi con universale esclamazione ma con avvilimento, dice Marsili, di chi avesse voluto studiare per davvero. Allora io mi immagino Marsili che cammina per la piazza di Bologna incontra il fratello Filippo, l'astronomo Manfredi, il segretario maggiore Martelli, il legato pontificio Lorenzo Casoni, il cardinale Origo, Monsignor Lambertini. Non supplica, non rimpiange ma ricrimina perché al posto di ciascuno di loro, e lo dico con le parole di Calvino, avrebbe potuto esserci lui se si fosse fermato nel tempo tanto tempo prima, oppure se tanto tempo prima un crocevia invece di prendere una strada avesse preso quella opposta, e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell'uomo in piazza. Allora sarebbe stato il capofamiglia al posto di Filippo, segretario maggiore al posto di Martelli, consulente pubblico e professore ben pagato né più né meno di Manfredi, mediatore tra l'autorità romana e le istanze locali come i cardinali e i monsignori ai quali chiedeva attenzione. Lui che aveva girato il mondo per beneficio della nostra religione e a gloria dell'autorità cesarea, lui che aveva dispensato risorse e progetti a vantaggio della patria e massime dell'ordine nobile, lui che aveva intessuto relazioni con protagonisti della scena europea e con istituzioni d'avanguardia, a vantaggio delle scienze, lui tornava a casa da postulante inascoltato e come ricorderà a distanza di anni, anche nel più benevole dei casi, tacciato del concetto di visionario. In qualunque altra condizione si fosse trovato, quella del patrizio, del funzionario pubblico, dello scienziato di punta, dell'alto prelato, dell'ambasciatore, avrebbe potuto di più e meglio. Non per sé, Neil Meyer è diventato il suo motto, ma per dare realizzazione alla vasta idea di un moderno e internazionale istituto delle scienze. Ma attenzione, il progetto non era quello del disinteressato mecenate e tantomeno del delirante visionario. Se la rilevanza dell'università aveva conferito a un capoluogo di legazione il rango di una capitale, il declino di quella fama non poteva che avere ripercussioni forti sull'intera città e sulla sua vita economica, in sofferenza dopo la crisi della manifattura della seta. Ciò che Marsili sperava perciò di promuovere con la nuova istituzione era un rinnovato sodalizio con il territorio, nella convinzione che gli enigmi della scienza, se affrontati e risolti, avrebbero fornito il più efficace strumento di potere e avrebbero permesso di coltivare per lo meno l'illusione che attraverso un potere illuminato dalla scienza sarebbe stato possibile correggere e contrastare ogni barbara dominazione sugli uomini e sulle nazioni. Ma la convinzione di Marsili che l'ultima ratio scienze dovesse essere anche l'ultima ratio principum non la poteva condividere con la sua città, con una città che non voleva vederlo e che lui stesso si sforzava di vedere diversa da quella che è. La biografia di Marsili è piena di questi esempi di estraneità, di incomunicabilità, quasi di diplopia tra la visione della città e quella di Marsili. Ne ho scelti due lontani nel contenuto e nel tempo proprio perché mi sembrano rappresentare la gamma di una cittadinanza paradossale. Sul primo di questi ha richiamato l'attenzione Fulvio Simoni in un articolo di qualche di di una decina d'anni fa e che in qualche modo eh ho ho rivisto di recente. Siamo all'inizio del mille seicentosettantotto e il gonfaloniere Francesco Carlo Caprara fa nominare il ventenne Marsili tra gli otto anziani consoli in carica nel senato cittadino. Dunque un giovane ben integrato nell'aristocrazia locale. Eppure anche in quella magistratura così intrinseca al governo della città è lo stesso Marsili a raccontarsi fuori posto. È il carnevale e lui come i giovani in vista del patriziato partecipa a una giostra dando pessima prova di sé disarcionato dal cavallo prima ancora di iniziare il combattimento. Mi occorsi accidente che non fu mai sentito. Il cavallo del mio avversario aveva un cimiero fatto in forma di dragone e per occhi due specchi i quali nel punto in cui farsi doveva l'incontro percossi da raggi del sole stravagantemente scintillando spaventarono in tal guisa il mio cavallo che con un salto attraverso buttossi fuori dalla lizza. Era in quel teatro la nobilissima duchessa madre di Modena la quale per proprio istinto d'amore mi proibì la seconda carriera onde convenne mi essere solo dell'altrui prove spettatore con mio grande sentimento. Lui Arnisillo l'anagramma del cognome che aveva scelto per il torneo goffamente scaraventato nella polvere della piazza tra gli gioccoli di un cavallo spaventato niente meno che da una maschera. Un ritratto che contrasta poco con il ritratto equestre che abbiamo tutti in mente quello di Antonio Zanchi alla biblioteca universitaria con un generale blasonato, decorato, sicuro, fiero, elegante, saldo, in sella, un cavallo ritto sulle zampe posteriori. È l'immagine di un grottesco fallimento che contrasta anche con la consueta incapacità di Marsilli di essere autoironico tanto più in un'autobiografia tutta volta al riscatto della propria immagine della propria esperienza militare. Ma quella grottesca defiance gli serve in verità per descrivere per antifrasi l'obsolescenza di un gioco guerresco, la giostra, ancora fortemente identitario per la nobiltà locale per la sua stessa famiglia. Allora nella ricostruzione retrospettiva di quella debacle abilmente inserita nella propria mitopoiesi, Marsilli vuole marcare la distanza tra il professionismo del soldato alla moderna, nel quale riconosceva il proprio ruolo e il municipalismo medievale di un patriziato ozioso, incolto, inconcludente e proprio per questo disposto a identificare il proprio rango in sì nobili esercizi. E non è senza significato nemmeno il riferimento alla duchessa madre di Modena, cioè a Laura Martinozzi, nipote di Mazzarino, reggente del Gran Ducato dopo la morte del marito Alfonso IV, figura presenti a Parigi, a Roma e a Londra dopo il matrimonio della figlia con Giacomo II. Allora da una parte i riguardanti che lo irridono, i rampolli di un'elizia accendata dai gusti de passé, dall'altra una donna protagonista degli equilibri politici della penisola e dell'Europa. Lui, il ventenne Luigi Ferdinando, pur collocato tra gli anziani consoli accanto al gonfaloniere, non è già più con i giovani della propria città e del proprio rango. E altrove, semmai in sintonia con quella reggente che era sembrata al muratori, il miglior duca di Modena, capace di risanare il bilancio di uno stato che aveva ereditato sull'orlo del collasso. Di casa a Roma, lei, non meno che a Vincent. E l'annuncio nell'autobiografia, retrodatato al milleseicentosettantanove, di quel gap che avrebbe disallineato il giovane conte Luigi Ferdinando dalla sua famiglia e da una città estranea e quasi mai sollecita ad accoglierne le prospettive. La stessa incomprensione, la stessa distanza che lamenta il ritorno da Vienna nel millesettecentoquattro e poi nelle lettere, nelle suppliche, nelle inventive, nelle invettive che negli anni tra il millesettecentonove e la morte indirizza familiari, senatori, cardinali, legati pontifici e papa. Sì perché mentre Marsili si impegnava a realizzare a Bologna un'istituzione scientifica pubblica sulla quale nemmeno Parigi e Londra potevano contare, quell'ordine nobile al quale aveva pensato di giovare e dal quale si era aspettato appoggio, gli chiedeva nient'altro che l'ultima delle Wunderkammern barocche, adatta a divertire dame e curiosi, piuttosto che a conquistare al retto vassallaggio della ragione e della conoscenza, le terre irredente dell'ignoranza. Non un arsenale del sapere diremo oggi trasferibile, ma un cavallo di troia della scienza. Apparenza piuttosto che sostanza vogliono i bolognesi, lamentava, o meglio sbraitava allora Marsili. Particolarmente incisivo a questo riguardo il cagliere d'Oléans noto come istruzione finale compilato nel 1726 per il signor Biagio Antonio Ferrari, procuratore di Marsili, presso l'allora Monsignor Crospero Lambertini, incaricato dalla Santa Sede di giungere a un compromesso tra le istanze del donatore Marsili e quelle dell'assunteria e del reggimento. Ho dimenticato il PowerPoint e quindi sono costretta a leggere il le parole di Marsili. Gli libri delle case private sono venduti, le botteghe dei librai sotto le scuole sono ridotte a termini e li padroni di quelle, i librai, muoiono di fame. Nelle librerie pubbliche non si vede veruno che le frequenti, dolendosi che nell'estate sia caldo e nell'inverno freddo. E se sia possibile di studiare senza libri, ogni uomo sano di mente lo giudicherà. Per compiacere eruditi, questi mediocri che governano lo studio, per compiacere gli eruditi hanno stabilito una massima tra loro, di lodare, di applaudirsi, di dire che sono belli ingegni e infine che sono uomini grandi, non volendo esponersi mai ad altercazioni né cimenti d'emulazione. Gli senatori, che dovrebbero essere gli giudici per distribuire giustamente gli premi, finanziamenti, non intendono nulla servendosi per informatore del Martelli che dopo che diventò segretario maggiore, oltre alla lui dottrina poetica, gli furono infuse tutte le scienze e anche il dono delle lingue. La nobiltà, come dissi, non solo non attende agli studi ma ne ha avversione e derisione e gli uomini di bassa estrazione, tutti debiti all'esempio della nobiltà, all'ozio. Fra i nomi dei letterati di presente si mangiano quello che una volta dava lustro e demolimento all'ordine patrizio nobile. Cominciai l'istituto nell'età di ventidue anni, con quella specie di studi che si facevano nella mia patria ed essendo stato per venti anni lontano dalla medesima, credetti che vi fosse lo stesso genio e volontà di studiare come era allora. Non era così o perlomeno se una cosa Marsili non era assolutamente capace di fare, era mediare e accontentarsi, sicché finì per sbattere contro quelle che chiamava le simmetrie del governo bolognese e cioè una sorta di consociativismo antiliteram tra i poteri forti della città, l'elite senatoria, quella religiosa ma anche i collegi dottorali e le e le assunterie, conseguenza di secoli di governo misto. Così dopo più di vent'anni di contrasti e di proteste si risolse ad arrendersi come a Braisac, non a un nemico esterno e bene armato ma a una nobiltà che non attende agli studi e a un senato che anziché premiare la sostanza rigorosa della scienza, plaude agli appariscenti travestimenti dell'ignoranza. Nel millesettecentoventotto abbandonera Bologna per tornarvi solo per concludere un corso di vita che lo aveva visto in tanti modi, studenti irregolari, esploratore irrequieto, soldato asburgico, schiavo dei turchi, plenipotenziario imperiale, stratega, celebrato a Buda e degradato a Braisac, mercenario, spia, esploratore dei fondali marini, ingegnere militare, corrispondente di Newton e interlocutore dei pescatori del Golfo del Leone, collezionista, bibliofilo, diplomatico, generale, conte, accademician royal a Parigi a Montpellier, fellow della Royal Society di Londra, ma mai, se si eccetto al bimestre del milleseicento settantotto, quello in cui cade da cavallo, mai più incaricato di compiti e di ruoli pubblici a Bologna. Fuori dal proprio tempo, ma anche fuori luogo, Marsili visse diverse vite, di tutte però appropriandosele solo a metà. Colpa sua, aveva un brutto carattere, come si dice di chi non riesce ad abbozzare, ma Felix colpa, visto che fu lui e non i belli ingegni che si applaudivano a vicenda, a qualcosa, a che avrebbe resistito al tempo, nonostante le simmetrie ostative del mainstream cittadino. Non c'è dubbio, anacronistico per i contemporanei, moderno per i posteri, visionario per i suoi concittadini, ma anche lungimirante per chi verrà, vivrà altrove e dopo di lui. Colpa e merito fu un inquieto per scelta, un viaggiatore per forza, un combattente per necessità, un medardo di terralba, ma senza lieto fine, irrimediabilmente dimezzato in una patria che non lo riconosce e dalla quale lui stesso non riesce mai fino in fondo a prendere congedo. Vi ringrazio. Bene, il convegno è cominciato bene, sono sicuro che proseguirà altrettanto bene. Adesso la parola a Florica Egmont che ci farà vedere che rapporti ci sono tra, ti vuoi mettere lì? Che rapporti ci sono tra l'illustrazione scientifica cinquecento e quella successiva a Marsili con Humboldt, quindi nomi altisonanti. Prego. Florica Egmont è stata con noi proprio in questa sala a fare un convegno su Aldrovandi nel duemila e quindici, è un'esperta di iconografia scientifica in età moderna. Ecco, ah, ok, non ci ero per gli altri online, penso. Ok, vorrei anche scusarmi del mio italiano, un po' strano, e secondo dal fatto che sono arrivata molto tardi e in un modo indiretto all'argomento Marsili, non ho mai pubblicato niente su Marsili, e sono arrivata lì a quell'argomento tramite un'indagine sul poliedrico scienziato tedesco Alexander von Humboldt. Quelle ricerche su Humboldt sono iniziate un anno prima del lockdown e avrei ovviamente voluto approfondire le mie indagini su Marsili per confrontarlo meglio con Humboldt, ma a causa Covid non sono finora riuscita a consultare il fondo Marsili nella biblioteca universitaria qui a Bologna. La mia è quindi davvero una presentazione di lavoro in corso appunto di lavoro appena iniziato e sono molto grata ai lavori di Olmi, Vai e tutti voi da cui ho imparato molto. Quindi io vengo da 500 e vediamo se le immagini vanno avanti. Non penso o utilizzo un mouse. Ah, adesso sì. Ok, grazie. Quindi io vengo da 500 della storia delle scienze naturali e le indagini sulle rappresentazioni della natura. Parliamo di animali, piante, pietre, minerali eccetera e soprattutto durante gli ultimi vent'anni mi sono occupata sia delle immagini stampate che dei disegni originali e colorati in tutta l'Europa e qui ne vedete un esempio alcune tavole di Aldrovandi qui fatte a Bologna. Grazie. Ma questo tipo di materiale fu prodotto anche in tanti altri paesi europei durante quell'epoca. Qui ne vediamo un altro esempio creato in Belgio, nelle Fiandre dovrei dire, ovviamente non c'era in Belgio, vicino a Bruges. Un approccio internazionale a questa materia mi sembra essenziale se si vuole discutere di argomenti come la circolazione immagini scientifiche tramite copie, la loro uso e la funzione del disegno e della illustrazione stessa come strumento scientifico durante il lungo Cinquecento. In altre parole mi interessa il ruolo delle immagini nella diciamo creazione di conoscenze scientifiche e qui l'inglese è molto più facile, parliamo di visual imaging e di knowledge making, scientific knowledge making. Non è facile tradurre queste espressioni in italiano. Le stesse domande sulle produzione e il ruolo delle immagini epistemiche che mi interessano per i Cinquecento me le pongo anche quando parliamo del Seicento e del Settecento. Pensiamo per esempio alla collaborazione fra scienziato e artista come nel caso di Linneo e il pittur e botanico tedesco Georg Eret che vedete qua. O pensiamo alla rilevanza delle collezioni private di naturalia create durante il Settecento in modi diversi di presentare e di rappresentare la natura. Qui una pagina dell'album creato dal matematico, fisico, botanico, mineralogo e medico svizzero Johannes Gessner. Quest'album l'ho visto dieci giorni fa in originale a Zurigo e una meraviglia. Quel Gessner, Johannes Gessner fu coetaneo di Marsilli e come lui fondatore di una accademia delle scienze, la Naturforschende Gesellschaft di Zurigo. Vorrei spiegare brevemente da dove provengono queste mie domande sulla produzione e la circolazione delle immagini e sul linguaggio visivo, visual imaging, nelle scienze naturali. Nel mio approccio fanno parte di indagini sugli stili scientifici, un termine che trovo molto bello e utile e che è stato usato già da Luca Ciancio nel suo bellissimo libro su Alberto Fortis e che ci aiuta a distinguere tra la filosofia delle scienze naturali, da un lato, le idee diciamo, i concetti e le sue pratiche e metodologie dall'altro lato e ovviamente non esiste una separazione tra di loro ma nelle mie ricerche preferisco concentrarmi sulle varie pratiche che fanno parte degli stili scientifici come il lavoro sul campo, la notazione, la misurazione, l'osservazione in prima persona, anche l'apprezzamento estetico e naturalmente il disegno. Prestando più attenzione alle pratiche che alle idee sembra poi a me almeno un approccio particolarmente adatto a Marsilli. Attenzione agli stili scientifici piuttosto che alle filosofie può anche permetterci di ripensare la periodizzazione classica della storia della scienza, di aprirci un po' di più alla lunga durée e ci dà la possibilità di, diciamo, di fare confronti sia avanti che indietro nel tempo, avanti fino a Humboldt in questo caso e indietro fino al cinquecento. Riferendosi al cinquecento, il professore Tega già sosteneva che la tradizione scientifica a Bologna fosse molto importante per Marsilli come scienziato e naturalista e ovviamente pensiamo non solo a Galileo ma anche a Ulisse Altrovandi e in questo momento vorrei proporre un contesto cinquecentale contesto più largo geograficamente, cioè europeo. Tutta una serie di metodologie cruciali in quanto parte degli stili scientifici ha preso forma e si è affermata come tale nel cinquecento. Tra queste c'erano già il già detto lavoro sul campo e alcune convenzioni specifiche della pittura scientifica, come ho provato di mostrare nel mio libro Eye for Detail, quindi un cocchio particolare, al dettaglio, magari al dettaglio. All'estremo opposto della scala temporale del mio confronto, quindi ragionando del cinquecento, si trova Alexander von Humboldt. Perché ho pensato a lui? Qui ho fatto un elenco un po' lungo di somiglianze fra Marsilli e Humboldt, ma non vi leggo a tutte. Vale per entrambi un alto status sociale, una grande abilità linguistica, una grande varietà di attività scientifica durante tutta la vita l'abbiamo già sentito nominare, una vasta rete di rapporti internazionali, ma anche qui più in basso vedete un elenco diciamo di metodologie e interessi intellettuali che in un certo senso condividevano. Erano grandi viaggiatori e lavoratori sul campo, osservatori meticolosi, c'era nessuna distinzione tra scienza pura e conoscenza per usi pratici, quindi la scienza applicata per loro, per tutti e due, e avevano una grande capacità di ragionare la grande quantità di osservazioni personali specifiche e localizzate a modelli molto più generali. Infine possiamo individuare delle somiglianze interessanti nel loro nei loro linguaggi visivi e il loro utilizzo di immagini sui quali mi soffermerò durante il resto del mio discorso. Entrambi furono disegnatori eccellenti, condivisero un forte interesse estetico per la natura e entrambi cercarono di sviluppare nuovi formati visivi al servizio della scienza. Come possiamo analizzare il ruolo del linguaggio visivo per questi uomini che attribuirono un'importanza enorme al viaggio, all'osservazione personale e all'esperienza diretta dei fenomeni naturali. La rappresentazione visiva, come sapete voi tutti, comprende una varietà di formati, va da grazi bozzetti di campo a disegni più sviluppati, a diagrammi, raffigurazioni naturalistiche e infine alle illustrazioni stampate. Consideriamo brevemente il processo produttivo delle immagini scientifiche. Il primo passo ovviamente consiste del disegno. A volte viene fatto sul luogo, a volte no, e poteva far parte del lavoro sul campo. In altri casi rappresenta un processo creativo, cioè la, possiamo dire forse la ideazione tramite il disegno, il disegnando visivo e creare, diciamo, sviluppare delle idee mentre si disegnava. E qui vediamo schizzi di questo tipo, Marsilli, sul lato sinistro uno schizzo autografo di diverse strutture mutuose e sul lato destro un schizzo autografo di Humboldt, indicando la linea di neve e latitudini diversi. Il prossimo passo sarebbe di trasformare uno schizzo in un disegno e alcuni di questi disegni poi venivano utilizzati come modelli per le illustrazioni stampate. Qui vediamo due disegni sul lato sinistro di Coralli, di Marsilli ovviamente, e a destra una pagina stampata e poi vediamo Humboldt, l'anguilla elettrica famosa e un particolare ingrandito dell'anatomia e diciamo nel lato, la parte superiore si vede uno schizzo fatto durante il lavoro su campo da lui, poi sul lato sinistro in basso, il disegno nel suo taccuino di viaggio, quindi di nuovo è proprio un disegno fatto autografo e a destra in basso l'illustrazione stampata. Se guardiamo indietro nel tempo la combinazione artista-scienziato in una persona ovviamente non era una novità. Tra i predecessori di Marsilli e di Humboldt riconosciamo per esempio nel cinquecento il famoso naturalista svizzero Conrad Gessner con un disegno autografo qui sul lato sinistro del metà cinquecento e sul lato destro un disegno dell'aristocratico marchigiano Gerardo Cibo, una persona che fu diplomatico, pittore professionista di paesaggi e anche naturalista a livello professionale. E in questo caso ovviamente Adrovandi non è un buon esempio perché non esistono, a quanto io sappia, disegni realizzati da lui personalmente. Tuttavia né Marsilli né Humboldt fecero tutte le loro immagini di persona. entrambi lavorarono regolarmente con pittori professionisti e mi interessa specialmente la collaborazione fra naturalista e pittore durante la prima fase della produzione di immagini epistemiche, cioè durante il lavoro sul campo e durante il viaggio quando le persone erano proprio sul luogo. E ci possiamo chiedere appunto quanto personale fosse l'osservazione personale del naturalista. Si potrebbe forse sostenere che questi pittori funzionassero come un paio di occhi di più, in più per i naturalisti e magari anche come un cervello in più. Uno dei pittori collaboratori più interessanti di Marsilli fu il miniatore bolognese Raimondo Manzini. Lui dipinse circa 60 uccelli della regione del Danubio per Marsilli, tutti uccelli acquatici come vedete qua. E le immagini stesse possono raccontarci tanto sulla connessione tra osservazione e rappresentazione. E se guardiamo bene, vediamo qui ma anche nella prossima immagine, questa immagine uccelli un po' strani, un po' innaturali, hanno delle forme un po' diciamo non proprio naturali. A volte ci sono delle pose strane del collo e di tutto il corpo. Vediamo delle zampe un po' flosce. Vediamo anche una pessima forma fisica dell'uccello evidenziata per esempio dalle piume arruffate, come nell'esempio più inferiore. Molto probabilmente Manzini aveva a sua disposizione spesso degli uccelli morti, forse uccisi durante una battuta di caccia e poi portati dal pittore. Una possibilità che si adatta bene alle circostanze storiche della permanenza di Marsili e Manzini nella zona del Danubio. E lo stesso Marsili sicuramente ha avuto l'opportunità di osservare uccelli acquatici dal vivo mentre si trovava in quella zona del Danubio, ma certamente ha avuto qualche problema nel identificarli. il famoso ornitologo Tim Burkhead, inglese, ha recentemente sottolineato che Marsili abbia chiaramente usato dei libri di riferimento molto antichi per le sue identificazioni. Per esempio il grande libro sugli uccelli di Conrad Gessner del metà cinquecento pubblicato in mila cinquecentocinquantacinque, quindi proprio antico, e libri di John Johnston e John Ray della seconda metà del seicento. Per fare di nuovo il confronto col cinquecento, anche in quei tempi la collaborazione fra naturalisti, collezionisti, esperti e pittori professionisti era del tutto normale. A volte i pittori lavorarono sotto la loro diretta supervisione, come come nel caso di Aldrovandi e il suo pittore Giovanni dei Negri. In questo esempio, nelle Fiandre, l'aristocratico Charles de Saint-Omer commissionò un pittore fiammingo anonimo che creò dei disegni molto raffinati, come vedete qua, degli uccelli acquatici nella zona costiera vicino a eh vicina a Bruges, ehm sul lato destro vedete l'esempio del delle fiandre. Le immagini di pelicani, sono pelicani o pelicani? Pelicani. Pelicani, ok, che vediamo qui. Mostrano chiaramente quanto sia rimasto stabile e immutabile quel formato visivo durante i due o tre secoli successivi al Cinquecento. In effetti come formato è abbastanza comune anche ai nostri tempi. Qui vediamo Marsili Manzini eh in confronto con Aldrovandi del Neri e più in basso quel disegno di Gessner. I tratti tipici come vedete qua del formato sono quasi mai si vede un contesto, un paesaggio. Invece c'è la pagina bianca, vuota. Gli uccelli vengono raffigurati di profilo o semiprofilo. Se guardate bene le loro code e i loro becchi sono spesso attorcigliati verso lo spettatore come non è naturale per un uccello ovviamente. e poi gli occhi degli uccelli che possono essere gialli, rossi eccetera eccetera e come vedete qui sono spesso raffigurati semplicemente come neri e probabilmente perché furono spesso osservati già morti. Una storia molto simile può essere raccontata per i disegni dei pesci. Anche se non sono sicura se Raimondo Manzini abbia dipinto anche questi o se siano opere di Marsili stesso. Forse qualcuno di voi lo sa. Mettiamo a confronto lo storione di Marsili Manzini con lo stesso pesce dipinto nel 500 per Gunrad Gessner qui a destra e quello nei libri pittorati Fiamminghi in basso. Ma la durée è ancora più lunga. Poco è cambiato nel linguaggio visivo usato per rappresentare i pesci durante quasi quattro secoli da metà 500 fino a Humboldt nel 800. Humboldt qui a destra ovviamente non sono storioni i suoi pesci però l'idea del formato è penso chiaro. Quasi la stessa storia possiamo rintracciare molto brevemente per le pietre, i minerali, i fossili e le conchiglie. Durante il 600 e il 700 la loro raffigurazione segue i formati visivi sviluppati per le piante e gli animali. Vengono quindi rappresentati come pezzi singoli sulla pagina bianca senza contesto e quel formato corrisponde anche strettamente alla loro presentazione da oggetti nei cassetti dei collezionisti. Qui vedete le pietre di Aldrovandi e i fossili nel senso moderno della parola del museo calzolari a Verona in una illustrazione stampata nel nella prima parte del 600. Durante i secoli successivi il modello visivo cambiava pochissimo. Vediamo accanto al Aldrovandi qui in versione piccola alcuni fossili stampati all'inizio del 700 dall'esperto svizzero e amico di Marsili Schurz e alcuni disegni di fossili dipinti. Quasi trompe lei nell'album di Johannes Gessner a Zurigo di metà 700. Humboldt continuò nella stessa tradizione come vediamo in questa pagina di Conchiglie. Persiste anche nella presentazione simmetrica caratteristica del 700 e della scienza barocca e le parole chiave sono simmetria, morvologia, superficie, consistenza e ovviamente colori. Adesso guardate bene i coralli di Marsili. Sono un esempio particolarmente significativo perché ci mostrano cambiamenti e continuità nei modi di rappresentare scientificamente. Marsili come vedete qua mette degli ingrandimenti di dettagli accanto nei disegni dei coralli interi. Presta molta attenzione alla struttura e la consistenza del corallo e mostra delle sezioni trasversali. Non è un caso eccezionale. Questo formato visivo incontriamo anche nelle raffigurazioni anatomiche di Marsili, per esempio nel calamaro che vediamo qua e lo stesso linguaggio visivo viene usato da Humboldt nei suoi disegni anatomici di animali che vediamo sul lato sinistro. Entrambi ingrandiscono i particolari rilevanti e li raffigurano accanto all'immagine dell'animale intero. Questo formato visivo fu abbastanza insolito nel Cinquecento, almeno quando ci limitiamo ai coralli. Ferranti Imperato ad esempio guarda l'intera creatura e presta particolare attenzione alla sua superficie, consistenza e morfologia e così fecero pure il pittore per l'imperatore Rodolfo qui sul lato destro e per il medico naturalista Felix Platter qui sul lato sinistro. I particolari ingranditi di Marsili e di Humboldt sembrano puntare dritto all'uso del microscopio e quindi alla cosiddetta scienza moderna del dopo metà Seicento. Ma non fatevi ingannare, già verso metà Cinquecento sia le sezioni trasversali che i dettagli ingranditi furono usati nei disegni botanici di Conrad Gessler, lo svizzero e di alcuni altri naturalisti realizzanti quindi circa cinquant'anni prima che esistesse la prima generazione del microscopio. Poi li troviamo quelli dettagli ingranditi nello stesso periodo metà Cinquecento più o meno anche nella illustrazione anatomica parlando di corpi umani e più raramente anche dei corpi di animali. Sembra quindi che questo formato visivo sviluppato inizialmente nel campo della anatomia sia stato introdotto nello studio della natura ma molto prima del microscopio e questo fatto ovviamente solleva molte domande che vanno oltre la mia presentazione di oggi. In conclusione vorrei sottolineare che ovviamente non ho fatto affatto esaurito i parallelismi visivi tra Marsili e Humboldt. Ho parlato principalmente dei disegni di naturali singoli come uccelli, pesci, coralli, pietre e alcuni studi anatomici di animali ma avrei potuto scegliere anche le immagini geologiche che vorrei fare o le immagini archeologiche oppure le mappe in particolare dei fiumi e correnti nel mare e vari tipi di diagrammi e tabelle ovviamente non troveremmo in quei casi sempre la stessa lunga durée. E poi una cosa che mi piacerebbe molto fare potremmo facilmente dedicare un'indagine separata all'influenza di Marsili e di Humboldt su vari pittori. Pensiamo nel campo della geologia specialmente allo svizzero Felix Meyer e per Humboldt ovviamente ci sono i due paesaggisti famosi, l'americano Frederick Church e il tedesco Albert Berg a metà ottocento. Vorrei finire con due immagini sintetiche perché le immagini spesso spiegano meglio delle parole. un'immagine innovativa sul lato destro e più in basso è molto famosa del vulcano Cimborrasso in Ecuador in cui Humboldt ha tentato di collegare fattori come altitudine, clima, temperature, zone di vegetazione, colore del cielo e tante altre cose in un'unica immagine combina anche tavola, tabella e diagramma. L'altra immagine è poco conosciuta anche se ormai dovremmo sapere, conoscerlo tutti, ma altrettanto innovativa. Qui Marsili cercava di rappresentare la struttura organica della terra. Entrambe rappresentano lo stile innovativo e sintetico che unisce Marsili e Humboldt. Viste insieme ci possono forse indirizzare delle nuove strade da percorrere nella storia comparativa e visiva delle scienze. Grazie. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. E poi ci sarete pronto poi di sviluppare le cose quando verranno pubblicati gli eventuali atti, io spero proprio di sì. Grazie. Adesso Giovanni Ricci, Giovanni Ricci che ci parla di un testo di biografia di Marsili molto noto che è quello della sua schiavitù. Si occuperà di paradigmi e di eccezioni dell'esperienza marsiliana rispetto alle altre. Walter Tega di questo invito è lui il padrone di casa e quindi insomma è responsabile di questa mia presenza qui. Grazie Walter e ringrazio poi Fulvio Simoni che ha concretamente messo in movimento la macchina. Eh dopo questo intervento mirabolante di Floriche che ci ha mostrato queste meraviglie io sono un po' in imbrato perché mi limito alla liturgia della parola come si diceva una volta cioè o si dice anche adesso cioè non ci sono immagini. Comunque però sono un po' sollevato da un aspetto che io non conoscevo ehm non ero stato informato non sapevo che c'era questo sottotitolo questo completamento del titolo straniero in patria. Quando l'ho visto o ho giubilato perché in effetti la mia comunicazione ehm ruota un po' intorno a questo questo senso di alterità che eh Marsili ebbe l'abbiamo sentito anche prima nella prima relazione di Anna Rita Angelini ebbe rispetto alla sua patria e che si accentuò sicuramente in occasione della più drammatica delle sue esperienze di vita cioè quella di schiavo dei turchi. Quindi senza volere e preliminarmente poi mi sono ritrovato perfettamente in questo titolo straniero in patria e di questo mi rallegro. Dunque schiavo dei turchi è poi liberato e tornato eh nella in cristianità. Eh comincio col dire che in molte tradizioni folcloriche e religiose sussiste il fenomeno del morto che ritorna. Il sostantivo francese revenant di cui manca l'equivalente in italiano esprime alla lettera questo fenomeno il ritornante. Eh di di questo tema del morto che ritorna si è occupato anche Sigmund Freud definisce questo tema perturbante in sommo grado e eh perché il il morto minaccia l'equilibrio che si è ricostituito dopo la sua scomparsa. Scompare eh e via è finito e intanto la società, gli affetti si ricostituiscono. come dice giustamente Balzac intorno al caso del colonel Chabert che un esponente illustre della categoria dei morti che ritornano dice eh dice Balzac se i morti si mettono a ritornare le esistenze individuali e anche l'ordine sociale vengono sconvolti. Ora gli schiavi cristiani dei turchi erano una sorta di morti. Quando non se ne avevano più notizie ne veniva certificata la morte legale. In ogni caso la prigionia presso gli infedeli equivaleva a una morte religiosa e morale o per interruzione della pratica cristiana o addirittura per apostasia formale. L'assimilazione della schiavitù alla morte era dichiarata esplicitamente. Ecco come parlava un notaio ferrarese intento a rogare un affrancamento nell'anno millequattrocento quarantanove. Dice il notaio non c'è nulla di peggio della schiavitù che è cosa simile alla morte e viene considerata una morte civile. Ma appunto come i morti questi morti speciali cioè gli schiavi talora ritornavano. Schiavo dei turchi anche il conte Luigi Ferdinando Marsili era tecnicamente un morto pur non essendo se ne mai perse del tutto le tracce. Personaggi di alto rango si interessarono alla sua sorte e gli stessi padroni curarono i contatti nell'attesa del riscatto di questo schiavo barra morto speciale. E così il ritorno di Marsili a Bologna si da un lato rispettò i paradigmi usuali di simili vicende dall'altro fu un ritorno speciale nel senso che mise a nudo speciale come speciale era questo schiavo morto morto schiavo nel senso che questo ritorno mise a nudo strati di realtà solitamente celati. In una biografia già molto sfaccettata come quella di Marsili questo è un ulteriore elemento di originalità che non resta privo di ricadute sulla stessa immagine scientifica di Marsili. Ora le storie di schiavitù dipendono dalle carte prodotte dagli ordini religiosi redentori o dalle confraternite del riscatto. In un quadro simile dominano gli intenti apologetici e gli stereotipi etnici, religiosi, letterari persino. È un po' maggiore l'accuratezza delle notizie sui rinnegati, sui redenti in odori di apostasia perché questi venivano affidati all'inquisizione e l'inquisizione sapeva come far parlare ma questo ora non ci riguarda. Nel caso di Marsili la fonte principale è il raguaglio di schiavitù lasciato dal protagonista stesso. Inaffidabile per antonomasia un testo simile richiede di essere trattato come gli strumenti della filologia, della psicologia, della comparazione. Lo scopo di tale assedio al testo è di costringere il narratore a rivelare ciò che egli non avrebbe voluto rivelare. Si affaccia qui un principio di metodo nella gestione delle fonti che è così importante che ne affido la formulazione a una voce che nessuno può contestare, la voce di Marc Bloch. Lui dice persino nelle testimonianze più decisamente volontarie ciò che il testo ci dice non costituisce più l'oggetto preferito della nostra attenzione. Nella nostra inevitabile subordinazione al passato riusciamo tuttavia a saperne assai di più di quanto il passato stesso aveva creduto bene di farci conoscere. Cominciamo dunque con un riassunto dice che Marsili crede bene di farci conoscere poi vedremo un po' di scavare. Ora racconta nel 1679-80 egli si trovava a Costantinopoli al seguito del barilo veneziano Pietro Civran. Dopo altri viaggi nell'82 prese servizio nell'esercito asburgico che presidiava il confine ungherese fin quando non iniziò la spedizione turca contro Vienna. Il 3 luglio 1683 fu catturato da cavalieri tartari nel corso di una scaramuccia minore. Ai suoi primi carcerieri Marsili celò la sua identità ma fu presto smascherato. Il suo primo padrone fu Ahmed, pascià di Temesvar, oggi Timisoara, che lo incaricò di preparare e distribuire il caffè nel suo reparto. Su questa nuova bevanda asiatica Marsili scriverà poi un trattato. Allora recentemente Rosita d'Amora ha mostrato come il trattato del caffè di Marsili sia fortemente dipendente da note scritte dal letterato turco Hussein Efendi che note sul caffè appunto che Marsili aveva conosciuto a Costantinopoli nel 1679. Metto un bel esempio di scambio culturale cioè insomma la pubblicazione in occidente di un trattato sul caffè bevanda asiatica basato largamente su note di un dotto ottomano. Ma torniamo allo schiavo. Malgrado un tentativo di fuga Marsili seguì forzatamente la ritirata ottomana dopo il disastro ottomano a Vienna. E poi fu ceduto due fratelli bosniaci Omar e Gelillo. Questo Gelillo secondo me è Jalil ma insomma italianizzato. Le trattative per il riscatto del conte si conclusero nel primavera del 1684 grazie alla mediazione dell'ex ex ormai bailo Civran. A Sarajevo i due bosniaci ottenuto il riscatto lo sferrarono, gli tolcero le catene e gli consegnarono un cavallo su cui racconta Marsili più nudo che vestito montai col solo equipaggio delle mie catene. Cioè sono vestito molto sommariamente ma portando con sé le catene. Sulla via del ritorno Marsili portò le sue catene allora dalla Bosnia scese sulla Dalmazia veneziana e quindi atterrò al caso di dire a Spalato poi Zara Venezia prima di entrare solennemente a Bologna. Di qui ripartì velocemente per Loreto una classica meta votiva degli schiavi liberati. Infine raggiunse la Santissima Annunziata a Firenze il venerato santuario mariano dove dichiara lasciai appese le mie catene. Negli anni successivi Marsili valorizzò a Bologna il simbolo delle catene. Sollecitò che gli schiavi redenti della città intervenissero in pubblico con una catenella sull'abito. Fissò una catena sulla cassetta per le lemose agli schiavi posta nell'altro dell'istituto delle scienze. Si presentò alle processioni con una catena sulle spalle. Le catene vere intanto stavano a Firenze così almeno sembrerebbe sulla base della narrazione che abbiamo fin qui seguito. E adesso cerchiamo di capire se tutto fila liscio. Riannodiamo dall'inizio. Allora intanto il tentativo di spacciarsi per una persona qualunque al momento della cattura era comune. I prigionieri di Rango speravano così di abbassare il costo di un scatto che poteva mandare in rovina le famiglie di origine. Ma con Marsili i tartari non ci cascarano. D'altronde bastava dare un'occhiata al corpo, alle callosità delle mani o dei piedi per valutare la qualità di un prigioniero. Più tardi i tentativi di fuga di Marsili nel marasma della ritirata turca da Vienna rispettano la regola di condotta dei giovani schiavi. Era giovane, era quindi ancora insomma prestante. E come pure le punizioni subite, sferzate a seguito di questa tentativa di fuga. Non conosciamo i dettagli delle trattative per il riscatto ma l'ex bailo Chivran avrà certo saputo anche rivolgersi fra i vari intermediari disponibili ai due lati della frontiera. Anche il dono delle catene al momento della liberazione rientra nei paradigmi usuali. Erano gli schiavi stessi a richiedere di ricevere le loro catene al momento della liberazione e questo per due ragioni. Le catene certificavano la durezza del trattamento e se c'era durezza del trattamento c'era assenza di apostasia. Quindi questa era una conferma di come dire fedeltà alla fede originaria, le catene. E poi una volta arrivati in patria fungevano da ex voto depositate in determinati santuari. Fin qui nulla da eccepire nella narrazione di di Marsili ma d'ora in avanti la situazione si ingarbuglia un po'. Nel caso di Marsili le catene che lui porta come dire un padre nudo ma insomma le porta in giro, le catene correggevano l'impressione di una prigionia troppo dolce nel ruolo di caffettiere perché sapete uno giovane e forte come lui poteva finire a remare sulle galere. Il caffettiere era un bel mestiere. Ma è ben vero che una volta rivelato il suo rango, non ce l'ha fatta nasconderlo, il valore di riscatto dello schiavo, dello schiavo di lusso come lui, superava il suo valore d'uso. Cioè conveniva di più tenerlo in vita in buone condizioni che metterlo a remare sulle sulle galere. Non bisognava sciupare una merce così preziosa. Marsili dice di aver depositato le catene a Firenze dove non se ne ha più traccia. Eppure nelle collezioni storiche dell'Università di Bologna si conservano delle catene che un'iscrizione ottocentesca afferma essere di Marsili da lui stesso donate. È una contraddizione bella e buona Firenze o Bologna? Forse quelle di Bologna non sono catene autentiche ma quelle che lui portava da schiavo e che si è portato in braccio, lui racconta, sullo schiavo, sul cavallo scendendo nella Dalmazia Veneta. Ma altre catene, per esempio quelle impiegate dal conte nelle sue comparse pubbliche, quelle che portava sulle spalle, o delle catene fissate sulla cassetta dell'Istituto delle Scienze che però pare fossero un po' piccole, simboliche. Queste delle collezioni dell'Università sono catene spesse, grosse. Insomma incontriamo qui un punto, la verità e l'identità delle catene che è circoscritto solo in apparenza, ma in realtà pare singolarmente adatto al modo di conoscenza noto come paradigma indiziario, cioè da un dettaglio singolo. Vediamo un po' allora di svolgere questa contraddizione delle catene del Marsili. Allora, gli oggetti fisici che il passato ci ha trasmesso, oggetti fisici, sono spesso assai poco oggettivi e anzi ingannevoli. Non parlo qui di truffe di tipo antiquario. Esistono trappole più sofisticate, ordite dai contemporanei stessi. L'antichità degli oggetti non viene intaccata, l'antichità non viene intaccata, ma resta dubbia la loro intima verità, a conferma di quanto sia varia la fenomenologia del falso in storia. Allora, si è detto che i redenti desideravano portare con sé le catene. Giunti in patria, se ne spogliavano pubblicamente al termine di cerimonie dal forte simbolismo religioso e dai forti significati antropologici incentrati sull'idea di decontamina, de, fra parentesi, contaminazione. Quindi sono delle processioni, si presentavano con le catene spesso vestiti da turchi, no? Quindi con dei turbanti. Poi nel corso di varie cerimonie religiose si spogliavano di queste catene, buttavano via gli abiti turchi e si rivestivano con gli abiti cristiani, come si diceva. Molti di questi, quindi era proprio un decontaminarsi e in questa operazione di decontaminazione le catene erano indispensabili e anche il buttare via queste catene. Si tornava agli usi e alla religione della propria nazione. Molti di questi reperti ferrei sopravvivono in giro per il Mediterraneo, ma sospettiamo che non sempre siano proprio le catene che lo schiavo aveva subito durante la cattività. Altre volte sospettiamo che siano dei falsi d'epoca fabbricati o per accreditare storie di schiavità dubbie o comunque per rendere secondo i, come dire, i protocolli la cerimonia della riacquisizione. Ora, l'incarico di garantire la probità dello schiavo spettava chi l'aveva fatto liberare, cioè le confraternite, eventuali mediatori, gli ordini redentori. Solo i più altolocati potevano fruire di mediatori privati, come nel caso di Marsili, che è come mediatore, un mediatore di altissimo bordo, come un bailo veneziano addirittura. Se no ci pensavano le confraternite. Fiorenti da secoli nelle metropoli mediterranee esistevano confraternite anche in città meno esposte al pericolo, per esempio a Bologna dal 1578 o a Ferrara dal 1714. Il guaio però è che i dati fattuali di una causa tanto giusta, la liberazione degli schiavi, sfuggivano al controllo perché i redenti, come i morti, riemergevano dal nulla. Si favoleggiava di finti riscatti, di finti mediatori, di finte sferze, di finte catene. Nell'arte della forfanteria di Giulio Cesare Croce, uscita a Bologna nel 1622, leggiamo una delle modalità per guadagnarci su da parte degli impostori. Talò finge rancor d'essere scampato di mano a turchi come farsi suole e di grossa catena circondato per le strade gabbare le gentaiuole. Quindi ci sono questi impostori con delle finte catene, dicono sono sfuggito dalle mani dei tuburchi, ecco le catene, datemi, insomma, datemi elemosine. Oppure, sempre negli stessi anni, Raffaele Frianoro, autore di uno dei più famosi trattati di forfanteria, nel suo libro sui vagabondi, nomina le longhe catene con cui i falsi riscattati andavano in giro truffando gli ingenui. Vere o false, le catene contrassegnavano il mondo degli schiavi liberati. Potevano essere a volte solo allusioni simboliche. Per esempio, a Marsiglia nel corso del Seicento, in sfilate appunto in cui poi lo schiavo liberato si liberava delle catene, riprendeva i vestiti cristiani, spesso durante queste sfilate le catene erano sostituite da semplici strisce di seta indossate che venivano buttate via come fossero delle catene. Quindi a volte erano semplici allusioni. A Bologna, in un corteo di liberazione di due schiavi del 1722, invece, antiché le catene di ferro, i due schiavi portavano dei collari di stucco, quindi allusione di vario tipo. A Milano, nel 1764, si esibirono in corteo delle catenelle argentate. Ma le sedi delle attività di riscatto contonevano catene vere. Così viene descritta la chiesetta della confraternita del riscatto di Ferrara. Vedonsi appese alle mura le catene con le tabelle, nomi e patria dei schiavi cristiani liberati da turchi per gli uffici di questa confraternita. La chiesetta ferraresi con le sue catene non esiste più, sta bombardata da una seconda guerra mondiale. È arrivata fino ad allora. Invece, vicino alla stazione, invece San Gerolamo alla Certosa di Bologna, che è succeduta alla locale bolognese confraternita del riscatto soppresse in età napoleonica, ecco, invece San Gerolamo alla Certosa mostra una singolare collezione di catene appese al muro della chiesa accompagnate da cartigli di questo tenore. E questo è un esempio e vedremo adesso perché ho scelto questo esempio. cartigli d'epoca, eh? 1683, riscatto di G.M.Ghiselli in Costantinopoli, lire 2963. Adesso ritroviamo questo personaggio. Poi ad altre catene che ci arrivavano, insomma, no? Capitava di liquefarsi alla lettera. Di ritorno da Lepanto, l'ammiraglio Marcantonio Colonna sostò a Loreto, seguito dai rematori liberati che vi depositarono nelle loro catene. Il motivo devozionale dell'offerta delle catene si era sviluppato nella penisola iberica al tempo della riconchista. La chiesa di San Juan della Freia e San Toledo è rivestita all'esterno interamente da catene di schiavi liberati durante la guerra di Granada. Diversamente da Toledo, però, a Loreto, le catene di schiavi liberati a Lepanto furono fuse per fabbricare le cancellate della basilica. Gli strumenti di tortura degli infedeli furono convertiti a gloria del proprio Dio. Eppure qualche dubbio lambisce l'autenticità delle catene deposte a Loreto. Sul corpo dei rematori saranno rimasti solo frammenti quando li liberarono a colpi d'ascia. La liberazione in quella confusione avveniva a colpi d'ascia, no? Solo frammenti sul corpo dei rematori li liberarono a colpi d'ascia in quell'inferno navale. Ma i dubbi si solidificano proprio a proposito di una vicenda sviluppata fra Costantinopoli e Bologna nel 1683 in cui c'entra Marsili. Entra in scena quello schiavo di cui abbiamo letto prima la tabella, Giovanni Maria Ghiselli, che abbiamo appena conosciuto. Malgrado il riscatto pagato, lo schiavo Ghiselli fu consegnato nudo, nudo, veramente dice con solo la camicia, ma tecnicamente la camicia solo era, equivaleva a dire nudo, no? Con solo la camicia, al bailo Civran. La camicia non era una camicia così, era un un indumento, come dire, oggi lo venderebbero da intimissimi, ecco, no? Malgrado il riscatto pagato, lo schiavo Ghiselli fu consegnato, appunto, nudo al bailo Civran. Infatti il padrone dello schiavo Ghiselli, che era niente proprio di meno che Mustafa Delì, Bey di Chio, quindi un personaggio importante, era stato costretto a liberarlo da pressioni politiche attivate proprio da Marsili con la collaborazione del bailo Civran. Ma il padrone, Mustafa Delì, era molto indispettito di aver dovuto ehm liberare questo suo schiavo. Per rabbia di dover lasciare lo schiavo, gli levò di dosso fin la camicia, però dopo gliel'ha ridata con le partite, no? Perché insomma, no? Nara la confrattente del riscatto di Bologna. E benché pregato, non volle dargli manco i suoi ferri. Questo è il massimo del dispetto, non gli dà le catene. Sfregio estremo, perché Omar e Gelillo saranno più generosi l'anno dopo con Marsilli, no? Perché gli danno le sue catene. Bene, arriva a Bologna lo schiavo Ghiselli e però porta in processione le insegne della propria schiavitudine, ossia le catene a lui intestate che vediamo affisse alla chiesa della Certosa, che però sono catene false, nel senso che non possono essere quelle rimaste in Turchia e che il bei di Chio aveva rifiutato di dargli. E non occorre essere un fabbro per sospettare che siano false anche altre catene appese a San Girolamo a Bologna, perché sono tutte uguali, qualunque ne sia l'origine e la datazione, dalla Barberia a Costantinopoli dal XVII al XVIII secolo. Mi viene da dire che qualche artigiano bolognese doveva essersi specializzato in questa singolare produzione di schiavi, di schiavi, di catene schiavi dei turchi. A Toledo, se non altro, le catene affisse a San Juan sono molto diverse fra loro, di Foggia, vanno a gruppi, quindi insomma in base a da dove era stato liberato lo schiavo. Non stupisce che nel secolo dei, non sono solo io malevolo, ma già nel secolo dei Lumi l'atteggiamento che su tutto ciò cambiò, mentre i redentori erano accusati di imporre ai redenti catene inventate. In questo quadro la storia dello schiavo Ghiselli che mostra a Bologna catene dichiaratamente rimasta a Costantinopoli ci mette in guardia. Istruttiva è anche la misteriosa doppia presenza a Bologna e a Firenze delle catene del conte Marsili. Fatto sta che a forza di manovre con catene dubbie, sue o di suoi protetti come lo schiavo Ghiselli, si comprende come qualcuno abbia cominciato a sospettare della schiavitù di Marsili, i cui rapporti con la sua città di origine, la famiglia, il senato, lo studio, già erano lungi dall'essere ottimali. Mi ha molto colpito prima nella relazione di Annalita Angelini, questo contare le occorrenze, sono sempre molto favorevole quando si può contare le occorrenze di una parola, di un luogo, di un nome. C'è detto che in tutta l'autobiografia di Marsili Bologna figura quattordici volte, non so, duecento di Enri, sono ancora qui i dati. E' vero che c'era un irraggiamento cosmopolita in Marsili, però solo quattordici volte Bologna nell'ambito di una vita che comunque andava e veniva, insomma poi a Bologna tornava, Bologna si impegnava, ci dice appunto qualcosa, ma noi ci conferma ciò che sappiamo, cioè di questi rapporti difficili con la città di origine. Sta di fatto che dopo la sua liberazione questi rapporti difficili ancora si confermano tali. Si comincia a sospettare, a mormorare della schiavitù di Marsili e si chiacchiera sul suo conto, tanto che dopo un po' ma più avanti si mise a ordinare i suoi archivi in modo da tramandare un'immagine scelta di sé per la schiavitù e per altre fasi della sua vita. Perché la salvezza come caffettiere di un paese interessato alle difese viennesi che Marsili conosceva lasciava perplessi, anche se dire il vero proprio Marsili aveva reso pubblica quella sua comoda mansione. E non bastava scagionarlo il fatto che gli avesse tentato di farsi passare per qualcun altro, poi aveva confessato, era stato smascherato e chissà quale accordo tacito si era stabilito fra lo schiavo e i suoi padroni. Per una volta la separatezza fra i mondi, il mondo cristiano, il mondo musulmano, il mondo dal quale lo schiavo ritornava come un morto, il revenant tornava, per una volta la separatezza fra i mondi giocava a farlo dello schiavo, nessuno poteva sapere cosa era successo davvero lì. I dati erano che aveva fatto il caffettiere. A guisa di Pasquinate alla Bolognese, questi testi romani, questi di derisione, di personalità, a guisa di Pasquinate alla Bolognese circolarono in città caricature che raffiguravano Marsili vestito alla turchesca con un turbante in testa, mentre sotto una didascalia infieriva. Avendo egli appostatato dalla fede, ha abbracciato l'alcorano, ha abbracciato il Corano. Peccato che questi fogli volanti che circolavano per Bologna si siano persi, non ci sono, non ci sono più. Inoltre si parlò di sevizi sessuali propiziati dalla bellezza del Giovanni Conte e in questo caso tematiche sessuali e tematiche religiose si incontrarono esplicitamente. Ecco cosa dice un prolifico cronista del tempo, il canonico della cattedrale Antonio Francesco Ghiselli, da non confondere con lo schiavo Giovanni Maria Ghiselli che è quello delle catene appese. Ecco cosa dice il nostro canonico. Ne fecero i turchi strazio, avendogli non poco pregiudicato presso quella libidinosa canaglia, la sua gioventù accompagnata da bellezza di corpo, a segno che veniva riputato per uno dei più bei giovani del suo tempo. Rovinato poi che l'ebbero con le lascivie, lo maltrattarono con battiture. Beh, almeno gli riconosce di aver preso le botte. E via di questo passo con crudi dettagli anatomici. Allora io sono una persona di larghe vedute, ma sono così crudi i dettagli anatomici che in anella il canonico della cattedrale Ghiselli che evito di raccontarveli qui. Chi fosse interessato, la cronica del Ghiselli si trova qualche piano sopra di noi, è un manoscritto, è la Biblioteca Universitaria di Bologna, ma quando dico manoscritto non pensate a un fogliettino così. Sono decine e decine di volumoni manoscritti grandi così. Quella gente lì avevano il... Come? Sì, appunto. Come posso dire? Questa gente qui all'epoca, sì, non è che gli si stancava il polso o la mano a scrivere, andavano avanti per decine e decine di volumi. Comunque, insomma, l'essenziale è detto in questa citazione, in cui allude, appunto, alle... 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 alle le servizie sessuali subite da parte di quella libidinosa canaglia. Il religio... cioè il canonico della cattedrale, cronista che dice questa cosa qui, era un piccolo nobile animato da ostilità di cieco per l'appartenente a una femmina oligarchica come era Marseglie. Allora, e spunti i dettagli morbosi su cui si sofferma il canonico e la finta pietà, non si può giurare che tutto sia falso, ma neanche che sia vero, insomma. La storia delle guerre e delle prigionie, la complessità stessa delle pulsioni umane, ci mettono in guardia da ingenuità moraleggianti. Ma il punto è un altro. Chi era stato in potere dei turchi, per quanto festeggiato il suo ritorno, si ritrovava al centro di sguardi interrogativi. Perché egli era vivo e libero, a differenza di tanti altri di cui si erano perse le tracce? Cosa aveva dato in cambio? Forse informazioni belliche se le possedeva. Forse l'anima, abbiurando la propria fede nei casi più comuni. Forse il corpo, qualora il corpo fosse attraente. Ora Marsili, esperto militare, conoscitore delle difese di Vienna. Uno. Spregiudicato di pensiero. Due. Bello l'aspetto. Tre. Potenzialmente rientrava in tutte e tre queste tipologie di scambio sospettato. Fatte le debite di Firenze, è in fondo il meccanismo colpevolizzante e autocolpevolizzante che ha stritolato certi superstiti dei genocidi del secolo ventesimo. Come mai tu sei vivo, gli altri sono morti? Come mai io sono vivo, gli altri sono morti, no? È noto da Primo Levi questo meccanismo. Allora Marsili venne coinvolto in questa, come dire, in questa un po' melmosa e un po' morbosa dinamica di pensieri, di parole, di immagini, in cui l'impudico canonico Ghiselli si segnala più di ogni altro, ma poi ci sono le immagini, vestito da turco, le affermazioni, ha abbracciato l'Alcorano, eccetera. Ora, in effetti, la sua vicenda di schiavitù conteneva alcune zone opache e poi altre diverse opacità su di lui sorgiranno nel 1703, quando, come sappiamo, sarà degradato, un altro tema questo, ma sarà degradato per aver ceduto ai francesi la fortezza renana di Braisac. Malgrado la successiva riabilitazione, la calunnia su Braisac, come ogni calunnia, lascerà i suoi residui. Tutto ciò riguarda solo la biografia di Gormarsili e non anche la sua figura di scienziato? Sì e no. Viene da pensare che non manchino le interferenze fra i due livelli. Per esempio, un certo bisogno di affermazione, di dimostrazione, di polemica, da cui l'autodidatta Marsili, che non aveva fatto studi regolari, l'ex schiavo dei turchi Marsili, mai si emanciperà, mentre ondate di maldicenza investivano ogni aspetto della sua vita personale e anche della sua ricerca. Ma il gran passo di prendere il turbante, cioè di rinnegare, sembra che Marsili non l'abbia fatto mai. Quel turbante con cui lo infamavano le caricature diffuse a Bologna dopo la sua liberazione. E dire che non ci sarebbe stato, non sarebbe stato affatto da stupirsi a quell'epoca e non sarebbe stato un caso isolato. Uno stretto contemporaneo di Marsili appartenente al mediesimo livello sociale, il conte francese Claude Alexandre de Bonval ebbe un percorso di questo tipo. Allora, lui fu punito per insolente ai superiori nell'anno 1704, l'anno dopo la sventura marsiliana a Braisac. Fuggì e passò, e francese, passò a servito dell'Austria. Ma anche lì si mise nei guai, ricevete una condanna a morte che l'imperatore commutò in un anno di prigione e nell'esilio. A questo punto il conte Bonval fuggì di nuovo, si fece turco, come si diceva allora col nome di Ahmed, fece carriera, divenne pascià di Rumelia e capo dell'artiglieria ottomana. Nell'anno 1729 il conte Bonval giustificò il suo agire a chiare lettere, parlava con l'ambasciatore di Francia a Istanbul. Dice, tanti papi e re cattolici si sono alleati agli imperatori turchi che dovrei essere uno sciocco per farmene scrupolo. I nostri principi non si allenano ogni giorno ai sovrani protestanti che la Chiesa condanna e tratta come se fossero musulmani. Essendo io guarito dei pregiudizi della mia nutrice, la cosciente e l'onore non mi rimproverano nulla al riguardo. Ora, in più di un'occasione, Marsilli avrebbe potuto scegliere la medesima strada, con conseguenze degne di un bel racconto controfattuale. Ma, sarà l'influsso della nutrice o meno, non lo fece, e affrontò le sfide dei sospetti, dei diversi sospetti, rimanendo anche per questo straniero in patria. Grazie. Grazie mille. Adesso andiamo sulla storia antica. Marsilli, il rapporto alla storia antica. Professor Giovanni Brizzi. Grazie. Grazie. Grazie innanzitutto agli organizzatori di questa giornata di studi. Ega è il nostro amico presidente. Io credo di essere qui un pochino di straforo a parlare di Marsilli e l'antico, o meglio, Marsilli è qualche cosa di diverso per l'antico rispetto a quello che è per le scienze fisiche. Al fine di comprendere la genesi del suo interesse per l'antichità classica, conviene forse partire dall'identità, più che dai caratteri, del Marsilli scienziato. Non dirò nulla circa il peso che ebbero su di lui i riflessi del cimento, modello insostituibile per tutte le accademie, le accademie scientifiche italiane. Mi asterrò anche dal commentare, sarebbe quantomeno imprudente di fronte agli studiosi qui presenti, il ruolo che lo stesso cimento ebbe, secondo lui, lui dice che quell'accademia è stata madre, cito proprio le sue parole, di tutte le accademie ultramontane che col crescere si ebbero poca gratitudine alla nostra Italia, quindi il peso che ebbe nell'affermarsi in Europa delle tecniche sperimentali. sperimentali. Non voglio nemmeno riprendere alcune considerazioni, se non per dire che Marsilli è diverso in questo. Soprattutto in Inghilterra si vedeva il procedere, il nuovo movimento intellettuale, cito il Gentili, per cui si vedeva il nuovo procedere, più che dalla scienza all'industria, dall'industria alla scienza. Quindi c'era questo, c'era stato questo rovesciamento delle prospettive. Rovesciamento delle prospettive che aveva visto una sorta di idea base, l'idea del Clement, l'idea di una scienza di tornitori, di fonditori, di calderai. Tanto che appunto a un certo momento, a partire dalla fine del XVII secolo, a presiedere alla Royal Society, vennero chiamati non studiosi, ma uomini d'affari. Quindi questo era un'impostazione. Marsilli era socio stimato delle principali accademie straniere, tra cui anche appunto la Royal Society, cui era stato introdotto da Isaac Newton. e credo che fosse vicino, credo che fosse vicino al pensiero di un uomo come lui e di uomini che si erano rivelati capaci, che erano stati capaci di superare lo sperimentalismo più ingenuo, cioè John Wallis, Christopher Wren e alcuni altri, per raggiungere una qualche forma di sintesi. Marsilli vede nel cosmo, concepito come un unico, virgolette, sistema regolato, tracce evidenti di sicuro raziocinio, continuo a citare le sue parole, di salda organica disposizione. E credo che avrebbe approvato, ove l'abbia conosciuto, che abbia approvato, ove l'abbia conosciuta, la formulazione dello Hells condivisa da Newton, secondo cui nel disporre l'universo il creatore aveva rispettato con ogni cura numero, peso e misura, naturalmente in inglese. Resta il fatto che la sua vocazione intellettuale, la vocazione intellettuale primaria, era stata alle origini quella dell'uomo legato all'ambito delle scienze fisiche. I suoi maestri, ovviamente, il Malpighi, il Morgagni, il Montanari, il Trionfetti, legati tutti o quasi al cimento, e devoti perciò al metodo sperimentale, erano lontani dai centri tradizionali del sapere, quelle università che privilegiavano le discipline umanistiche, spesso le avevano addirittura fa luogo vile meccanico, coloro che a un certo momento utilizzavano l'arte per imitare, quasi per violentare o per adulterare la natura. Naturalmente, ecco, dicevo, ha fatto sì che questa sua posizione per indole per educazione abbia portato per Marsili ad una definizione che vedeva un Marsili maggiore, e cito il grande studio di Raffaella Gherardi, un Marsili maggiore scienziato dall'uomo, scienziato uomo d'arme, accanto al Marsili maggiore esiste un Marsili storico, erudito, raccoglitore di anticalie, Raffaella Gherardi sottolinea questa posizione nell'esaminare questa figura, a torto giudicato minore, tra virgolette, dagli studiosi. In realtà, l'interesse che il Marsili nutre per l'antichità è, o almeno diviene, intensissimo e, a mio avviso, col tempo addirittura sostanziale. Sembra dimostrarlo il fatto che nel Danubius Pannonico Misicus, l'opera che rappresenta l'autentica summa del suo contributo, egli dedica un intero volume ad esaminare le tracce della civiltà romana lungo il Danubio. Uno spazio, cioè, pari a quello riservato alla geologia, all'itiologia, all'ornitologia, è molto superiore addirittura a quello concesso all'astronomia o alla botanica, alla geografia o alla meteorologia, all'idrografia o all'anatomia animale, discipline cheppure gli erano care e familiari. Questo atteggiamento si spiega forse con il fatto che, come già ho sottolineato altrove, nella scoperta del modello classico il Marsili riesce forse a conciliare gli opposti. La scienza con le sue finalità sociali, finalità sociali che però sono diverse dall'identità sociale che la scienza ha nel mondo anglosassone. Qui vedremo come ci sia una sorta di providenzia di providenzia deorum dietro dietro all'uso all'uso sociale della scienza e appunto la scienza con le finalità sociali e il suo legame con l'impero cui vede un precedente nell'impero di Roma. Quindi le anticaglie sembrano costituire l'elemento capace di offrirgli la prova tangibile che il buon ordine, cito proprio le sue parole, vagheggiato è possibile e che in altri temi in altri tempi è stato realizzato. Più ancora la scoperta dell'antichità classica tanto lontana dai suoi interessi giovanili gli consente forse di riconciliare le due anime presenti in lui l'allievo del cimento con il seguace dell'ortodossia cattolica. Nell'intuizione che forse egli fu tra i primi ad avere agli inizi del diciottesimo secolo di un sociale non affidato come nel mondo anglosassone all'attività delle classi emergenti ma emanazione appunto di una providencia principis votata alla pubblica utilità il Marsili torna alle origini cioè ad un paternalismo sociale che caratteristico della prima età imperiale romana ha singolari somiglianze con le antichissime monarchie non soltanto del mondo romano ma addirittura del mondo precedente. Il suo interesse per l'antichità attraversa a mio avviso tre fasi successive. All'inizio è una curiosità superficiale durante gli anni giovanili rappresenta probabilmente solo un tributo distratto alla cultura mondana del suo tempo. Al diario tipico del viaggiatore seicentesco si ispira ancora in fondo il Marsili nel registrare le osservazioni compiute durante il primo viaggio a Costantinopoli. Scarsi e quasi impalpabili restano gli accenni relativi all'antico. La tensione cresce a dismisura durante l'età matura. Uomo di guerra traduco dal francese ci sono passi del Fontenelle molto importanti e abile negoziatore il conte provvede soprattutto intermilitares equeac politicas expediciones a raccogliere un gran numero di informazioni. Qui è molto bello il passo ancora una volta di Raffaella Gerardi. Mira a fondare scientificamente ogni considerazione sull'Europa danubiana dove soprattutto opera e in particolare sull'Ungheria e precorre in certo qual modo l'azione cito di quei segreti ed in gran parte ancora sconosciuti agenti della politica mercantilistica che spesso in qualità di diplomatici le grandi potenze occidentali inviavano in altri paesi per riceverne in cambio informazioni approfondite. Non solo di carattere economico statistico e politico in generale ma anche di carattere militare cioè diciamo così in seguito in un secondo tempo economico statistico ma nell'età del Marsili sono ancora forse prevalenti le informazioni militari. All'interno della stessa corte imperiale il Marsili si connota come l'esperto in possesso di un patrimonio fondamentale di conoscenze e in questa cornice si inseriscono e non senza un qualche rilievo le notazioni storiche di erudizione le anticaglie marsiliane. Verso la fine della vita l'esito della vicenda di Braizac per inciso a Braizac ci tornerò sopra tra un attimo purtroppo lui ha contro uno dei migliori generali del suo tempo lui è un buon è un buon ufficiale non è naturalmente non è Eugenio di Savoia assolutamente Eugenio di Savoia è paragonabile a Napoleone questo lo sanno di solito ci si dimentica di questo ma Braizac lui ha contro Voban quindi vuol dire un assoluto mostro nell'arte nell'arte dell'assedio verso la fine della vita l'esito di questa vicenda lo porta lo porta in loca pura acqua e innocenza cioè lui si tira fuori tenta non perde il suo interesse tra le varie cose di cui tratta di cui tratta tra Parigi Montpellier in Provenza eccetera tenta una serie di trattati di redigere una serie di trattati però si dedica anche si dedica anche all'antiquaria continua il suo interesse per l'antiquaria ma in quell'ambito lo vedremo meditazione e ricerca erano alquanto al di fuori della sua portata viceversa era stato nel ventennale servizio prestato alla casa d'Absburgo che all'antichità egli aveva reso l'onore più insigne durante le operazioni belliche condotte lungo il Danubio dice il Fontenelle in mezzo a tanti tumulti agitazioni fatiche pericoli Marsili fece tutto quello che avrebbe potuto fare un sapiente naturalmente qui io cito dal francese ho il testo in francese che è un francese estremamente arcaico che avrebbe che che avesse viaggiato tranquillamente per acquistare delle conoscenze il mestiere della guerra ha dei vuoti frequenti e a volte considerevoli concessi a un'oziosità totale o a dei piaceri che ci si che si ritiene di meritare di aver meritati questi vuoti non erano per il conte Marsili li dava ad un'altra professione ad un altro mestiere quasi altrettanto nobile a quello di filosofo ed osservatore e raccoglieva raccoglieva materiale ciò che importa qui tuttavia non è tanto la visione che gli ebbe del tempo libero sentito quasi classicamente come ozium da destinarsi agli studi e neppure il sogno di elaborare un progetto sistematico ed unitario di organizzazione dell'Europa danubiana che pure lui manifesta da più parti conta invece il suo incontro rivelazione con l'antichità classica e con quella romana in particolare dobbiamo riflettere al fatto che lui è quasi subito come militare un poliorceta lui non è un tattico non è Turenne non è Eugenio di Savoia lui è un Vauban più in piccolo Buddha è diciamo così la contrapposizione la contrapposizione di la contrapposizione rispetto a Braes sul pensiero militare quindi incontro con la con l'antichità classica sul pensiero militare della prima età moderna l'esempio un romano era conosciuto in particolare attraverso le pagine di Polibio quando Luigi Ferdinando Marsili entra a sua volta in un dibattito che ancora continuava che ancora continua e prende a interessarsi dello allo stesso modello è passato molto tempo dal momento in cui era il 1594 Giusto Lipsio aveva tentato di dire una parola definitiva sull'argomento dal momento in cui cioè aveva pubblicato a Danversa il suo De Milizia Romana Libri Quinque Commentarius ad Polibium destinato a Maurizio di Orange e dal momento in cui quest'ultimo che vedeva a sua volta nel recupero del sistema romano la salvezza della patria aveva preso ad addestrare i suoi soldati a pugnare Romano More era passata molta acqua sotto i ponti e gli equilibri militari ai margini sudorientali dell'Europa soprattutto erano profondamente cambiati a lungo in questo settore ben prima che Giusto Lipsio cominciasse ad occuparsene la minaccia dominante era stata rappresentata dai turchi da cui spinti in avanti pareva inarrestabile da un impero ottomano cioè le origine dei cui giannizzeri venivano fatte risalire in un'opera del 1541 addirittura alla falange di Alessandro il Grande più spesso ancora che a quelle della potenza macedone le tecniche ottomane di combattimento erano state tuttavia accostate in seguito a quelle di Roma taglio un pochino questa parte i turchi adesso erano apparivano molto meno molto meno temibili anche se erano stati a lungo un vero e proprio topos Marsili Marsili a un certo punto Marsili a un certo punto si avvicina si avvicina a questo anche lui si accosta anche lui a questo a questo modello questo modello che era un modello che già giusto Lipsio aveva aveva in gran parte dismesso il dibattito durava ancora nell'età del Marsili che finì con l'esservi coinvolto secondo la biografia di Eugenio di Savoia scritta da Max Braubach il grande condottiero contemporaneo del Marsili che scongiurò definitivamente la minaccia ottomana aveva nella sua biblioteca giusto Lipsio ma non Polibio se per il comandante degli imperiali si può invocare il beneficio del dubbio pare certo invece che il più umile protagonista della nostra ricerca non conoscesse direttamente lo storico Acheo non sapeva verosimilmente il greco ce n'è una prova in tutti i suoi manoscritti e nonostante questo aveva raccolto una serie di di testi di testi memorie di diverse alcuni costumi degli antichi romani passati nei turchi aveva raccolto queste cose da ponersi nel libro grande della milizia romana marmi e medaglie cioè aveva fatto aveva completato una raccolta di questo di questo tipo non quindi anche lui non si sottrae al raffronto tra la realtà romana e quella turca che conosce benissimo ma la sua sembra ormai l'adesione blanda svogliata e quasi di maniera ad un topo sculturale che sta tramontando ad un luogo comune che ormai è sbiadito il pericolo turco pare a buon diritto ormai scongiurato anche se ritiene cosa certa che per la milizia la porta tolse assai dall'impero greco ed assai più dal florido romano l'analogia proposta si limita ad usanze civili soprattutto e non investe sotto il profilo dell'ars bellica che alcuni particolari aspetti della castrametazione ecco è questo che a lui interessa più di tutto più di ogni altra cosa in realtà è soprattutto quest'ultimo tema gli assedi sono il principio è la fine del suo del suo prestigio e quello che lo colpisce quello che lo colpisce che lo porta a raccogliere poi un'enorme quantità di dati sull'antichità romana nel mondo del Danubio è la somma perizia mostrata dai romani nel campo dell'ingegneria e soprattutto dell'ingegneria militare non non solo quella ma soprattutto quella si volge ammirato e dice a un certo punto ammette propria id nos docuit esperientia quando quidem audraro e venit ut cure nostre facendum aliquide extruendum que commissum fuerit quod idem a romanis olim fuisse prestitum fide vestigia facevano cioè c'erano le tracce che ci dicevano che i romani avevano fatto questo prima di noi questa significativa costante che rivela all'esperto una capacità veramente sovrana di controllare qualsiasi territorio lo spinge gradualmente ad ammettere l'antichità romana tra i parametri fondamentali su cui organizzare al tempo suo o pensare di poter organizzare al tempo suo la gestione dell'impero asburgico diventa un parallelo la decifrazione delle tracce lasciate dai romani nelle regioni del Danubio da lui visitate gli permette di intuire alcuni caratteri del loro apparato statale in particolare quelli connessi con la soluzione dei più diversi problemi strategici non solo le fortificazioni romane destano la sua incondizionata ammirazione non può fare a meno di ammirarle enormemente al punto che addirittura a un certo momento il suo elogio diventa sperticato poi apprezza le strade apprezza le strade e addirittura alcune cose lui le capisce le capisce istintivamente da soldato perché dice brevità temquerere anfractus vitare seccare montes via super paludes erigere e la rete di aria è creata dai romani ut commodius atque brevius iter foret non modo ad exercendum inveteres subditos imperium sed et in alis acquirendum cioè qui c'è una definizione che noi ritroviamo in uno dei grandi forse nel più grande studioso credo sia ancora il più grande nonostante tutto il più completo è un italiano è un italiano è uno studioso dell'IMES quindi del concetto di l'IMES voi tutti avrete sentito nominare quella particolare rivista ma il termine l'IMES indica la frontiera difesa dello stato romano e le strade in questo caso sono non i limites sono non solo vie militari destinate al controllo e alla protezione termine ultimo di una regione conquistata ma addirittura nel significato attribuito in origine al termine dai romani Livio parla di l'IMES appie del l'IMES dell'appia di assi militari di penetrazione in territorio nemico Marsili ha capito questo vedendo le strade vedendo le strade del Danubio ed è ovvio che un ingegnere militare come lui le abbia ci si sia buttato sopra le fortezze romane sono ricorda le varie figure è un ingegnere militare un ingegnere militare che in un'epoca in cui tornano di moda le fortezze il Coe Horn è il suo grande rivale Vauban al tempo delle guerre al tempo delle guerre di Luigi di Luigi quattordici Vauban è addirittura capace di farsi di farsi preferire ad uno stratega ad uno stratega come il Turen Turen è uno dei maggiori generali generali del suo tempo e il Marsili il Marsili si trova poi si trova poi l'ho detto prima ad avere di fronte ad avere di fronte Vauban a Braizac Fontenelle che ammira il Marsili dirà Villa siégée par Vauban ville prise ville défendue par Vauban ville imprennable cioè c'era poco da fare oltretutto gli danno pochi uomini e probabilmente il maggior colpevole non voglio difenderlo ma sono uno studioso di storia militare credo che lo si possa difendere abbastanza bene nella sistemazione data dai romani alle regioni Lugo e Danubio al soldato Marsili deve essere parso di vedere realizzati con un anticipo di secoli se non i canoni relativi all'impianto delle fortificazioni ovviamente diversissime nel tempo suo almeno i criteri inerenti la difesa del territorio che in quel momento sono tornati alla pace d'altra parte il doppio o secondo alcuni triplice sistema di fortificazioni del Boban salva la Francia in quel momento lì e sembrano le fortificazioni del Limes del Limes Renano in alcuni punti addirittura scaglionate su una profondità maggiore sono patrimonio dell'umanità le fortificazioni di Boban quod in Iuria temporum rebus detraere solet id Romana virtus magnitudine suorum operum repentit quorum aduc reteriuntur interrarum orbe vestigia da nubius sane et que abutraque eius ripa procul excorum tregiones pannonie dace misie nobis eas insistunt et pleracque porro quede romanorum ol in prudenzia tam in debellandi sostibus et imperi sui limitibus proferendis quam i sipsis circonspectis admodum et sollicitam uniminum disposizione contra illos defendendis clarissime testatur ecco Marsili diventa nel 1688 dopo la presa di Buda ispettore generale degli assedi forse in qualche modo un titolo in qualche modo analogo al ruolo di commissare generale de fortificazione che ottiene il ben più abile di lui il ben più abile di lui alla morte del del decrevi e c'è addirittura un panegirico un panegirico nel nell'elogiare le 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 realtà romane ne cassere refugiam cesareos exercitus in i sabere quod non ita rudem ac simplicem existimemus quind ut plurimum non modo ad eum ad quem seculi nostri prudenzia extollitur apicem per veneri sedessiam frequenter alzius assurrexerit e tuic quodam modo facem pretulerit ci hanno portato alla fiaccola cioè questi uomini questi lontani antenati ecco cerca di conoscerli meglio cerca di conoscerli meglio e qui fallisce cerca di conoscerli meglio e qui fallisce l'allievo dei grandi degli scienziati del suo tempo l'appassionato cultore delle scienze fisiche si volge alle letture alle letture del classico si volge a leggere si accosta alle fonti classiche si dota di un corredo di letture che comprende Livio Tacito Strabone Vegezio Vitruvio l'itinerario Mantonini la tavola poitingheriana la notizia dignitata un giustiniano Procopio nel quadro dell'impero romano che viene componendosi deve avere cercato modelli da proporre al potere del tempo suo ciò non solo naturalmente in ambito imperiale lasciamo fuori Bologna io Bologna non la tocco rispetto al potere imperiale non solo nell'ambito militare ma è più in generale per il buon ordine che sogna di vedere applicato da quel principe che definisce il più vivo ritratto che in terra possa darsi di Dio questo ci dice già come lui vede le cose c'è una un 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 manoscritto delizioso che io non ho mai non ho non ho potuto non ho potuto pubblicare ma c'è la presenza tra le sue carte di un di uno stupendo albero genealogico naturalmente totalmente inventato nella parte più alta che ricollega la casa d'Absburgo a Dioclefiano quindi e quello sarebbe veramente da studiare per vedere i vari i vari passaggi malgrado l'interesse crescente per l'antico il Marsili manca o finito manca però di molti degli strumenti necessari allo storico e all'archeologo direi quasi tutti solo nella maturità si è dedicato all'antichità romana che ancora al momento in cui redige la prefazione del Danubius gli appare tantis immersa tenebris si è accostata a questi tu studi da autodidatta e l'amore non basta il nobile bolognese non possiede dunque né lo potrebbe consuetudine alcuna con le fonti classiche gli fanno difetto in particolare l'attitudine filologica e la prudenza critica necessarie di fronte all'istoria classicamente intesa non è un filologo ad esempio perché non si rende conto della necessità di esserlo e non può essere vero storico perché ignora il metodo cosa che lo espone a qualunque rischio nelle sue raccolte sono confluite per esempio iscrizioni molte autentiche quelle che ha visto sul Danubio altre poi espunte per esempio dal Mondsten che le conosceva quando ha raccolto le iscrizioni nel corpus iscrizionum latinarum che sono create da celebri falsari ma di cui lui non si rende conto che qualcuno si è divertito a scalpellare o semplicemente a scrivere delle iscrizioni delle iscrizioni fasulle ed è persino giusto giunto ad inserire tra le fonti sul Danubio io sono diventato matto nel capire chi fosse chi fosse il Beroso Caldeo Beroso è l'autore di una di una supposta supportata storia diciamo mesopotamica completamente perduto per lui perduta per lui Beroso Caldeo una fonte sul Danubio allora io ho detto ma quest'uomo che è perfettamente onesto da questo punto di vista da altri punti di vista probabilmente no ma qui lui quello che quello che dice lo ha visto allora dove ha visto Beroso Caldeo ma è Annio Daviterbo è Annio Daviterbo la cui falsità è ormai stabilita oltre ogni dubbio dalla critica del suo tempo però proprio questa e qui chiudo è la dotte che ce lo rende prezioso il Marsili è una fonte sul mondo del Danubio non è uno studioso che ha studiato il Danubio sì lo ha anche ha anche cercato di studiarlo ma è una fonte che ha visto un mare di cose un mare di cose e che trasmette come frutto genuino di un'autopsia perché lì lui non mente mai quando lui dice che ha visto quell'iscrizione e poi traccia una serie di scarabocchi perché ha visto quell'iscrizione in Bulgaria ed è un'iscrizione greca e noi diventiamo mati a capire che cosa c'è scritto in quell'iscrizione greca lui ha tentato di dare una visione una visione davvero ecco chi vi parla ha tentato di tradurre alcuni dei suoi manoscritti in riferimenti possibili per l'antichista di oggi poi ho avuto un mare di altre cose da fare e ovviamente l'ho lasciato lì però resta molto ancora da vedere da leggere tra documenti e carte forse non sarebbe male se cercassimo di farlo grazie grazie mille grazie mille grazie mille complimenti allora eh professor Vai la visual imaging marsiliana nelle opere appunto nella per quanto riguarda la geologia la geologia grazie a Fulvio e a Valda Zega questa bellissima sessione di grande interesse dalla storia passiamo alla geologia e ritorniamo alle immagini il primo autore vedete è là in fondo sta sempre dietro Stefano Marabini è stato un mio studente abbiamo continuato sempre a collaborare in geologia e in storia della geologia e storia della scienza qui vedete le immagini dei due principali libri di Marsili i suoi i suoi capolavori stampati e se guardate nelle evidenziazioni la mer ouvrage enrichi defigure oggi si parla di reinforcement come effetto del visual imaging se andiamo nell'altra The Rubius Fanonico Musicus addirittura è perlustratus ha scelto bene ha detto giusto perché quel denubius per chi non l'ha preso in mano è un foglio è un librone in foglio sono dodici volumi in foglio quindi giganteschi nei quali domina la parte visiva la parte illustrativa rispetto al parlato rispetto allo scritto un concetto che mi piace sottolineare è d'altra parte è già stato ripetuto qui Marsili con l'Istituto delle Scienze è in competizione con la Royal Society e con l'Academy de Science e non va a copiare tanto più che le due suddette di cui lui faceva parte oltre che dell'Accademia di Montpellier avevano preso ispirazione avevano copiato sia l'incei che poi il cimento che è stato giustamente ricordato qui prima quindi siamo in un'ottica diversa allora noi qui vi vogliamo far vedere un po' di immagini proprio perché il mondo geologico di Marsili appaia come è giocato in termini di visual imaging che in italiano può trovare una traduzione analoga discorso per immagini è esattamente il concetto del visual imaging non l'abbiamo inventata noi uomini di oggi e società dell'immagine il visual imaging il visual imaging data da lungo lungo tempo pensate per esempio alla colonna traiana la colonna Antonina oppure pensate alle grandi vetrate policrome delle catedrali gotiche la bibbia dei poveri quello è addirittura esclusivamente visual imaging per educare e insegnare al popolo che non è in grado di leggere ma pensate addirittura o pensiamo addirittura ai geoglifici o agli ideogrammi dell'Oriente visual imaging è di importanza fondamentale è sempre esistito quello che non esisteva prima di Leonardo che è il pioniere teorizzatore del visual imaging è il visual imaging nelle scienze nelle scienze naturali che evidentemente può nascere solo nel cinquecento o giù di lì insomma con l'umanesimo e con il rinascimento perché andate a rivedere prendete in mano Plinio o Lucrezio o così via cose meravigliose articolate perfettamente bene c'è quasi tutto però mancano le immagini e quando è che su quelle tematiche subentrano le immagini subentrano ai tempi di Aldrovandi Aldrovandi è il nucleo è la partenza fondamentale Aldrovandi e tutti i suoi colleghi amici qui è stato ricordato Gessner è stato ricordato Calzolari ce ne potrebbero raggiungere alcuni ma siamo in quella cerchia lì è in quel momento lì è nel momento in cui prima dell'accademia galileana nasce lo sperimentalismo non nella scienza fisica matematica ma nella scienza naturale laddove è più necessario utilizzare e avere bisogno di immagini allora Leonardo teorizza il tutto nel fatto di dare una priorità assoluta totale alla pittura non dico rispetto allo scritto rispetto alla poesia cioè il culmine l'apice della formulazione verbale scritta presso la quale verso la quale la pittura ha una priorità una prevalenza fondamentale lo vedete in un esempio qui in questo spettacolare profilo geologico tridimensionale datato 1510 o lì intorno un anno prima un anno dopo e Leonardo lo sviluppa questo concetto e l'utilizzo del visual imaging abbondante in tutta la sua opera sia in geologia che in anatomia precedendo e ispirando quindi anche Vesaglio vedete qui Leonardo sulla destra e qui Vesaglio e qui Leonardo sulla destra e qui Vesaglio sulla sinistra e qui Vesaglio sulla destra le altre tre immagini sono delle immagini straordinarie di tipo geologico geomorfologico soprattutto la pianta la mappa di Imola con il santerno che nel 500 aveva le anse e che 150 anni dopo era un corso largo 4 volte fino a 700 800 metri incanalato di ritto per effetto della piccola età glaciale oppure lo vedete qua nel grande lago della val di Chiana questo è il Trasimeno relativamente simile all'attuale qui c'è il corso del Tevere e qui invece c'è la Chiana che anziché andare come fa oggi verso sud cioè a sfociare nel Tevere sfociava in Arno eccolo qui e questo è Arezzo oppure la rappresentazione strabiliante e straordinaria di Firenze della valle dell'Arno e del della Sieve che appunto a Sieve ecco qua entra in Arno e l'Arno prosegue verso Montecatini siamo qui questa rappresentazione a sfumato coloristico che dà le curve di livello è di una plasticità ed una resa strabiliante che permette a chi conosce queste zone di ritrovarsi là con una visione genitale come era una visione genitale questa della mappa di Mola non preesistevano visioni di questo genere e fino a che non siamo arrivati ai satelliti ai Landsat degli anni 60 70 80 visioni di questo tipo Leonardo come ha fatto a immaginarle niente a che fare con visual imaging mi chiedo come ha fatto voi provate ad andare in Google e a verificare i rapporti che ci sono è un esercizio che è stato anche fatto la deformazione di questo cerchio è di poche poche centimetri sulla dimensione totale dell'immagine che è un'immagine abbastanza piccolina di pochi centimetri solo da un lato per il resto è perfetto si sovrappone esattamente all'immagine che vi potete ritrarre da Google Google Science allora dopo Leonardo e Vesaglio arriviamo a Aldrovandi la cerchia dei suoi collaboratori europei e a questo punto non posso far a meno di citare speriamo che ci sia ancora Beppe Olmi e Fulvio Simoni che hanno pubblicato sono stati gli editori di un bel libro nel 2018 di cui ho fatto una recensione su Isis che riguardano proprio sia nelle opere stampate che nei manoscritti l'uso delle immagini in Aldrovandi e delle delle tavole sciolte che Aldrovandi utilizzava nelle lezioni che teneva a casa sua e che poi venivano subito riprodotte perché gli studenti che da tutta Europa venivano a Bologna le portavano in giro e in giro le ripubblicavano le distribuivano tant'è che oggi e loro lo documentano in maniera strabiliante nella gran parte delle biblioteche europee ci sono le tavole di Aldrovandi con le sue immagini relative a tutto il quadro della storia naturale che lui dava allora è chiaro che Marsili avendo una scuola del genere in casa pur non essendo non avendo fatto un percorso di studio o di studi regolari era perfettamente indotto a proseguire in quest'ottica tanto più che nella generazione intermedia fra Aldrovandi e Marsili ci stavano i suoi maestri di una generazione appena più anziani sia Malpighi che Gian Domenico Cassini sono già stati citati i quali naturalmente hanno imparato benissimo anche loro la lezione aldrovandiana ci hanno aggiunto quella dello sperimentalismo esteso oltre alla scienza naturale nelle scienze fisico matematiche e hanno instradato in maniera che non poteva essere lusa ma vedremo che Marsili l'ha sviluppata in maniera originale e la stessa cosa stavano facendo per esempio in Gran Bretagna i suoi colleghi e amici qui ho riportato Robert Boyle non ci ho messo Robert Hooke ma ho riportato Isaac Newton amici amici veri perché nel 21 Marsili è stato per tre mesi a casa di Newton ospite per fare le cose che doveva fare e voleva scappare da una epidemia che c'era invece nel Mediterraneo quindi è dato oltre a Gibraltar col Vassella eccetera a Robert Boyle nel 1697 98 dedica il suo lavoro sulla pietra fosforica e sui gessi bolognesi quindi erano assai più europei di quanto non lo siamo noi oggi o assai più internazionali di quanto non lo siamo noi oggi questi grandi signori questo lo saltiamo perché il tempo è tiranno ecco qui avete due immagini di malpighi che studia i tessuti vegetali qui a sinistra oppure studia rappresenta i polmoni della rana e un ingrandimento dei capillari a proposito anche Aldrovandi rappresenta varie immagini ingrandite di 7 8 10 volte quindi non dobbiamo sorprenderci e nei primi lavori no non ci dobbiamo sorprendere probabilmente utilizzavano delle lenti c'erano già lenti allora prima che il microscopio apparisse come tale certo Marsili nell'istituto delle scienze adoperava i microscopi di malpighi e quindi avevano certamente anche gli strumenti tecnologici adeguati già oltre al riferimento a Marsili potrei fare riferimento a un altro amico di Marsili che è venuto a Bologna varie volte a trovarlo mentre stava a Firenze Nicolò Stenone Stino il quale applica le stesse procedure di visual imaging sia in geologia che in anatomia grande anatomista poi grande geologo convertito in Italia a questa branca della scienza oltre che convertito dal cattolicesimo della sua naturale originale luteranesimo ecco se guardate questa immagine è una vera e propria icona molto semplificata estremamente lineare della stratificazione originale in ogni bacino sul fondo del mare sul fondo del lago eccetera che poi per passaggi successivi porta all'origine delle montagne voi che delle montagne non le vedete Leonardo le aveva già belle viste le aveva già belle rappresentate quindi non si può paragonare Leonardo con questi suoi successori no? però siamo in quella stessa ottica quando andiamo in anatomia vedete questa era l'immagine del test del vitello e i particolari dettagli e gli studi rappresentati che solo tramite un'immagine possono essere rappresentati e possono essere condotti e individuati allora Marsini era veramente cosciente di qual è il potere dell'immagine nello sviluppo della scienza e nella ricerca e nel riuscire a trovare le logiche della storia naturale nei vari campi della storia naturale per farvi vedere qualcosa di nuovo ci abbiamo messo Stefano Marabini ed io sedici anni da quando abbiamo visto questa immagine in biblioteca universitaria a trovare un dettaglio di cui vi dirò fra un poco ma la prima cosa di questo che è il viaggio all'Alpi di San Pellegrino e del Cimone che Marsini fa a Ferragosto cioè finisce a Ferragosto fa partendo il 2 di agosto del 1719 lì c'è il manoscritto che poi è stato anche pubblicato nel 29 un po' prima del questo l'ho pubblicato nel 29 proprio Mario Longhena ma in preparazione di quel centenario splendida idea cominciare a pensare al 2030 chi ci sarà vivrà vedrà speriamo qualcuno ci sarà bene in questa che è un'immagine che va da Bologna a tutte le varie città emiliane con nord in basso e sud in alto perché è uno schizzo di campagna sostanzialmente premessa al manoscritto è questa che vi leghi in inglese ma in inglese facile my duty is to report about the geographic aim of the journey si sbagliava perché non è un geographic aim solo è un geomorfologico è un geologic aim which shall be provided better through the enclosed map quindi mettiamo le cose avanti prima si fanno le immagini prima si fanno le piante I have drawn in the trip rather than the many words I could have written about quindi priorità prevalenza dell'immagine rispetto alle parole è esattamente quello che diceva Leonardo ma il bello è che cento anni dopo uno dei letterati più famosi a cavallo della fine del settecento e dell'ottocento Wolfgang von Goethe scrive I care now about sensory impressions only which no book can provide nell'italianische rise cioè la percezione visiva diretta non sarà mai resa da una descrizione verbale questo è il significato di visual imaging in science oggi allora ritorniamo alla nostra ingrandita è fatta in due parti per farvi vedere appunto questo è il fiume Reno partiamo da Bologna c'è la via Emilia qui c'è Modana qua c'è Reggio e così via e da nord verso sud cominciano ad apparire le catene di montagne sui due fianchi vallivi delle varie valli più o meno parallele fra di loro e qua ho messo una freccia a un toponimo lagune che esiste ancora anche oggi c'è un bel idro agriturismo lì e si trova subito dietro Sasso Marconi sul crinale fra il Reno e il Lavino ve l'ho messo perché è il risultato della nostra ultima escursione pre-covid cioè l'abbiamo fatta anche durante il covid ma subito prima del covid siamo riusciti a fare questa con grandi interesse allora anche questa è una vista a volo d'uccello non è una vista zenitale alla Leonardo ma a volo d'uccello e di molto interesse geologico anche perché qua e là vedete qui parla delle solfatare parla dello solfo in altri posti parla delle salse e così via vari altri dettagli geologici ma due le due cose che mi hanno colpito di più oltre a lagune a cui torniamo alla fine del discorso è la Repubblica di Monte Fiorino sapete la Repubblica di Monte Fiorino durante la guerra partigiana nel 44 per vari mesi adesso non ricordo quanti è sopravvissuta per quale motivo basta guardare le carte di Marsili vedete che qui c'è Monte Fiorino qui c'è Frassinago e vedete che a destra e a sinistra ci sono le barbette che mostrano immediatamente che tutta quella zona è una sorta di altipiano dove d'inverno quando nevica potete fare anche si di fondo si trova dagli 800 900 ai 1200 metri può rimanere innevata per anche un paio di mesi gennaio e febbraio ed è sopraelevata rispetto a tutte le zone circostanti quindi la Repubblica di Monte Fiorino poteva difendersi in mano ai partigiani neanche le orde inassisti erano in grado di fargli qualcosa l'altro argomento di grandissimo interesse dunque Marsili vedeva tutto guardava tutto e se segnava qualcosa questo è autografo se segnava qualcosa c'era una ragione allora vedete che ci sono gli alberelli che indicano le zone alberate indicano i boschi dove sono i boschi è andato a prendere le località più o meno guardate lì disegna nella fascia vegetazionale che sta fra 1200 e 1400 più o meno eccola qui il Monte Cimone via via tutte le altre varie cime sono spoglie sono nude ora noi oggi conosciamo il cono terminale del Cimone sopra i 2000 dai 2000 ai 2300 qualcosa è spoglio c'è solo prato perché è al di sopra della zona del limite della vegetazione anche per i 20 settentrionali la vegetazione arborea il bosco si limitava arrivava solo fino verso il 1400 e 1500 sopra non c'era perché perché la fascia vegetazionale stava bene lì perché perché nel 1719 eravamo in piena piccola età glaciale e quindi la vegetazione il limite superiore della vegetazione si era abbassata le carte di Marsili sono di un interesse di un'utilità concreta pratica per fare anche rifare la storia della realizzazione del clima stramigliante la prima volta che ho visto questa immagine era il 2002 Stefano non so se eravamo in due o c'ero solo io sono trasecolato veramente ancora di più dell'immagine che la Floric ci ha fatto vedere della struttura dalla terra anche quella è un'immagine affascinante però bisogna studiarla un po' di più questa è un pugno nello stomaco per la bellezza che mostra sono le sorgenti il ramo uno dei due rami delle sorgenti del reino germanico nelle Alpi e la rappresentazione è più o meno la solita con ombreggiature scure chiaro che mette in evidenza e fa vedere il rilievo allora questo è il ramo primo principale del reino e qui sulla destra ci vedete tutta una serie di rivoletti che prendono origine da questa macchia gialliccia sovrimposta al disegno originale allora questo disegno questa immagine è dovuta a Marsili e a Johann Jakob Scheutzer più anziano dei due Johann Jakob membro di questa accademia in quegli anni fra l'altro fu proprio qui che pubblicò tradusse e pubblicò la grande opera di Woodward 1695 e la prima cosa a cui pensai è guarda un po' qui qualcuno è intervenuto sul disegno che è probabile sia stato messo in bella da Felix Meyer cioè il pittore che era al servizio in quegli anni 1703 1707 appunto di Marsili che dopo il brisacco era andata a lavorare a studiare in svizzere sulle acque allora voi vedete molto chiaramente che questo è il crinale montano più alto questa è la depressione lungo cui si incanalano le acque quindi questo è il piede del pendio ripido della montagna allora questo accidente che cosa rappresenta banale al piede di un pendio ripido si raccolgono tutte le pietre tutte le rocce tutti i pezzi di roccia effetto di frane di terremoti di precipitazioni così via e formano una bella falda di detrito quella falda di detrito è come una spugna che quando piove raccoglie l'acqua la trattiene e la rilascia lentamente dando origine a questa serie una vera e propria serie di sorgentelle e di torrentelli che alimentano le prime il primo tratto terreno molto probabilmente Marsili ha avuto da Felix Mayer la bella di questo disegno che è ispirato da lui ci ha riportato sopra perché questo nell'originale si vede molto chiaramente che questa è una traccia matita le altre invece sono ripassate tutte con acquarello e sono achina nera ha rappresentato questo corpo che è un corpo geologico diciamo il materasso alluvionale in cui si forma una piccola falda che poi ritrasmette l'acqua che genererà una sorgente eccetera i geologi la chiamano un'unità litostratigrafica è un qualche cosa di non prima visto adesso paragonate l'immagine l'impressione che vi dava prima il chiaroscuro guardatela qui invertitela semplicemente al posto dove là c'è lo scuro qui c'è il chiaro e avete un qualche cosa di molto similare queste sono le immagini google attuali di dove non delle alpi svizzere ma delle alpi orientali qui siamo chiusi a Bressanone Vipiteno la pusteria questo è il confine italiano storico questa è la Stubaital per andare giù a Innsbruck cioè la rappresentazione che Marsili con Scheutzer con Felix Meyer mettevano in atto 250 300 anni fa è quella che automaticamente gli strumenti tecnologici di oggi mettono a disposizione Marsili grande inventa le parole per denominare una carta una mappa questa è la mappa potamografica del bacino del basso Danubio è un termine introdotto da Marsili sì forse non conosceva il greco però in questo caso potamografica era abbastanza facile da introdurre Brissi Brissi un'altra chicca è questa nel Bostoro la sua vatimetria studiata da ci ha pubblicato alcuni anni fa Stefano Magnani guardate bene questa figurina e vedete c'è un filo una manina gentile di signora che tiene il filo a piombo e il filo a piombo col piombo che arriva più in basso sul fondo questa è la sezione questa qui è roccia sui due lati e questo è lo stretto dei Dardanelli o il Bostoro quando il filo è lungo il piombo viene spostato verso il bordo finché tocca il bordo del canale dello stretto via via che uno risale accorcia il filo si sposta sempre di meno da una posizione verticale di equilibrio passa all'altra risalendo inverte il movimento fino a che è arrivato alla superficie dell'acqua ritorna verticale perché in aria non c'è venti in quel momento quindi non sposta il filo a piombo in questa maniera Marsile ha scoperto e dimostrato anche poi tramite una scatola sperimentale la inversione della corrente in un senso sul profondo cioè nella porzione fredda in un altro fredda e più salata in un altro nella porzione via via più calda superiore dell'acqua quindi inversione della corrente da un senso in profondità all'altro senso in superficie graficamente è una spiegazione che anche uno che non conosca né di geometria né di fisica né di scienze riesce immediatamente a capire con quel disegno ritorniamo a Leonardo è chiaro che Leonardo non può essere paragonato con i disegni con l'immagine che facevano Marpighi Marsili Stenone eccetera Leonardo è super è un'altra cosa questo è un trattato di geologia strutturale e di rocce metamorfiche però se guardiamo alle date là eravamo al 1510 questo Johann Gottlieb Lehman metà del settecento è uno dei massimi ingegneri minerari tedeschi e rappresenta le miniere di carbone della Germania centrale della Sassonia centrale in maniera diciamo abbastanza realistica ma anche un pochino kitsch ancora comunque è un documento utile ci dice che quegli strati inclinavano 40 gradi verso verso sud 50 anni prima Marsili a Felix Meyer fa mettere in bella e acquarellare questa rappresentazione di una piega simile nelle Alpi Svizzere ed è un qualche cosa non paragonabile con Leonardo ma assai più veritiero e assai più scientificamente percepibile e capito ecco perché Lehman non è in grado di fare quello schema che ha presentato ancora Floric prima la classificazione dei vari atteggiamenti degli strati nelle montagne rispetto a Lehman eccolo qui questo schemino Marsili in questo caso dalla rappresentazione di un'immagine tende a sintetizzare cioè a interpretare a fare una classificazione l'avevi imparato dai suoi maestri l'avevi imparato di Aldroandi le immagini servono per fare la classificazione le immagini preesistevano anche negli erbari o nei bestiari c'erano immagini anche prima dello sviluppo della scienza moderna però con un'altra accessione ecco questa è un'altra di quelle immagini che quando il geologo la vede la prima volta in biblioteca rimane sbalordito perché qui siamo nelle Alpi Svizzere ancora siamo nel 1705 è sempre Felix Mayer che la mette in bella e abbiamo in basso una successione di calcari finemente stratificati col simbolo tipico che usiamo anche noi che sono le fratture della fratturazione della roccia ancora oggi i geologi usano tutti usano quello stesso modo di rappresentare quella stratificazione nei calcari poi c'è una cenza alberata perché evidentemente per una qualche ragione le bancate superiori qui sopra sono ancora in parte calcare ma forse vedete tutti questi segnini blandi forse sono un pochino più marnose quindi sono più facilmente erodibili di quelle sotto e quindi la cenza indica l'arretramento della parete la cenza superiore invece è meno arretrata e diversamente da qui dove ci sono degli strati potenti diciamo decine di metri queste invece sono degli strati di qualche decimetro o il metro al massimo qua abbiamo una spessore di stratificazione intermedia quindi diversi tipi la prossima volta che è data sia area in dolomiti fate attenzione perché le varie cenge separano porzioni di successioni in cui fondamentalmente è lo spessore dei singoli strati che determina le differenze potrei dire che questa qua è il calcare del dachstein e questa qui era dell'omio principale questa era dell'omio anisiche e sono convinto di non sbagliare se andassi a trovarlo la stessa cosa che vedete andando in dolomiti e sono monti diversi nomi monti diversi conformazioni diverse a metà al tempo di Lehmann guardate che cosa ci faceva in Italia Giovanni Arduino questa è la sezione dell'agno lungo la val d'agno che è una rappresentazione veramente superba rispetto al nord vedete qui della differenza di questi vari strati qui cominciamo a competere anche con Leonardo se vogliamo un'immagine per il denubio non tanto per evidenziare qui ci sono anche le antichità romane eccolo qui le scrive anche strada romana eccetera che mi va individuata la vista vedete che gli ha messo la pavimentazione del basolato romano già anche questo graficamente è spaventoso è strabiliante ma la cosa che mi interessa mostrarvi in termini geomorfologici e geologici è il fiume le sponde del fiume Danubio in condizioni di regime di morbida cioè in condizioni normali che sono palustri con l'indicazione delle planticelle palustri anche questa schematizzata ma estremamente parlante la cosa che se non avete una preparazione geologica o geomorfologica o fisica non siete in grado di percepire è che cosa sono questi planticelli tutti orientati nella stessa maniera in un stesso modo e tutti ubicati nella stessa posizione non oltre non retro non più lontano c'è qualcuno che ha l'idea non i geologi voglio banale veramente banale Watson in piena il Danubio dalle Alpi trasporta un mucchio di sabbia non più la fanghiglia fine fine che fa le sponde fangose sui lati trasporta la sabbia anche la sabbia grossolana e la riversa soprattutto dove in prossimità del bordo a cui arriva la piena quindi la piena supera questo dislivello che può essere presumo di 7-8-10 metri riempie tutto il corso fondamentale allarga molto il letto deposita le sabbie e quando la piena finisce si ritira e ci rimane qui la sabbia la pianura pannonica è nota per essere uno di quei posti che per la metà dell'anno è attraversata da venti siberiani che arrivano dalla Siberia o dalla piattaforma russa quella sabbia viene arrangiata in dune successive con l'indicazione che il movimento prevalente del vento viene da sinistra e va a destra leggete le mappe e i disegni di Marsili e imparerete che cosa voleva rappresentare che cosa descriveva questo invece è il mio piccolo giocchino per cercarlo qualche volta noi in generale cerchiamo di rivalerci sui fisici in questo caso cerchiamo di rivalerci sui non sui letterati ma sugli archivisti ebbene il grande Frati ha fatto un'opera meravigliosa nel 28 in preparazione sempre di quel centenario per fare il catalogo dei manoscritti di Marsili ed è un'opera meritoria bisogna fargli un monumento se non ce l'ha già però qualche volta lì c'è di insavire in questo caso è un latino facile quindi se lo capisco io lo capisco in tutti qui alla lettera B vedete c'è ordo stratorum terreorum prope vitodurum ordine degli strati cioè sovrapposizione degli strati di terra terrosi quindi non rocciosi non lapidei presso quel posto lì ed è ed è rappresentato cioè è la descrizione verbale di quello che si vede qua in realtà soppora spiegato un pochino meglio per perdere meno tempo ve lo leggo nella successiva poi torniamo indietro nell'originale c'è scritto ordo strati poi manca alcune cose che non sono importanti ubi stratum linium inter jacet binis stratis sabbulosis dove uno strato ligno con legno e è interposto a due binis strati sabbiosi dove sono questi eccoli qui questo è lo strato ligno dove si vede che ci sono proprio dei dei rami affastellati dal trasporto torrentissimo di una piena e sopra e sotto ci sono due strati sabbulosis sapete come l'ha semplificato e traslitterato i bon frati ecco qui strada linea at fluviolum lights cioè linea è diventata la strada non lo strato e lui era un artista strabiliante straordinario conosceva perfettamente i latini e così via ma non aveva la minima conoscenza e eccezione di che cosa sia la geologia in questo caso la sedimentologia e le strutture della latina quindi può capitare anche questo uno che la prende per buona travisa e non trova perché la cosa strabiliante è che descrizione di questo tipo alla fine del seicento sono estremamente rare soprattutto mancano totalmente quello che voi vedete qui cioè la rappresentazione più vicina di un profilo pedologico voi direte ma voi avete una grande immaginazione in questo caso parlo di pedologie e di scuoli ma vedete questo marroncino scuro questo grigiastro e questo gialliccio sono dei colori tipici che ogni buon pedologo gli affibbia il proprio nome su un substrato meno non pedogenizzato non alterato cioè che non ha subito non è stato vicino alla superficie e soprattutto non è stata di sotto di un manto vegetale allora no non ce lo siamo immaginato perché Marsili rappresenta anche direttamente il processo di pedogenizzazione questo è l'alberello vedete laborativa questa è la terra laborativa cioè quella che viene arata di superficie con la vanga con la zappa eccetera questo è lo strato illuviale in cui penetra l'acqua e questo è il simbolo che usiamo usano ancora oggi per rappresentare da in questo strato viene disciolta chimicamente se c'è del calcare e riprecipita subito sotto perché qui l'aria facilita la dissoluzione qua la copertura facilita la riprecipitazione del carbonato e questo strato si chiama vedete ci sono rappresentati degli affari che i geologi i pedologi chiamano calcinelli di varia dimensione rappresentati in maniera perfettamente visibile uno quando lo vede non può sbagliare non può Marsili l'ha capitolo lo poteva spiegare perfettamente e sotto invece arenosa cioè lo strato arenoso questo livello superiore è depleted è diminuito in contenuto di CO3 e quello subito sotto è arricchito in contenuto di CO3 e non è uno casuale ce ne sono altri questo è vicino a Montpellier vicino al mare e è ancora più articolato perché qua parla di terra lavorativa con i segnini del depletion dell'illuviazione qui ci sono delle ostriche cosa si fanno le ostriche c'è il livello del mare Marsili l'ha visto in periodo di acque basse di livello del mare basso una piccola età glaciale ma prima il livello era più alto e quindi arrivava fino al bordo e sul bordo c'erano le ostriche marine sotto c'è della sabbia marina e qui sotto addirittura vedete travertino sabionizzo quindi una assoluta modernità diciamo decine o metà secoli che precedono sono in fondo perché questa è l'ultima immagine invece abbiamo messo 16 anni a trovare ed è ciò che si trova a poca distanza da quel lagune di cui vi ho fatto vedere la posizione vicina a Sasso Marconi nella mappa di Marsili fatta durante quel viaggio allora Marsili certamente questa immagine l'ha disegnata di sua mano non è raffinatissima come quella di Felix Maier è del 1719 fra i due colli qui in prima vista passa un torrentello e dietro c'è il profilo della montagna e la chiama ordo stratorum sempre alla solita maniera quindi successione degli strati in colle codebo dicto cioè nella collina chiamata codebo proprie Bologna qui di vicino a Bologna vedete che ci sono delle alternanze di argille sabbie sabbie più o meno grossolane e ghiaie e qui c'è un colore grigiastro marroncino la stessa cosa un po' più lontano si ripete qua dove ci sono le due frecce rosse vedete di nuovo un livello marroncino subito sotto la copertura vegetale del boschetto che si trova al di sopra di questi due colli guardate quel profilo lì in fondo ecco quel profilo lì in fondo è esattamente il profilo che vi vedete qua ma è un bosco e certo là erano alla piccola età glaciale crescevano di meno gli alberi in più li tagliavano perché dovevano scaldarsi qui siamo nella riesplosione vegetativa del optimum climatico che stiamo vivendo con riscaldamenti in aumento con precipitazioni in aumento con umidità maggiore l'immagine qui la luce che c'è non consente di vedere ma se voi prendete la briga di andarci vedrete che qui ci sono quegli strati che vi ho descritto prima e qui sopra questo orizzonte qua sopra è effettivamente arrossato come rappresentato in quella mappa ecco qui forse riuscite a vedere un pochino meglio il bosco molto folto ma il grigi qui con le varie cenge alberate e qua il colore arrossato vedete diventa ancora tre minuti sì finisco allora questa formazione noi oggi la chiamiamo la formazione di Monterumici che è un paesucolo che è poco distante ma sull'altra versante non è lontano dal lagone che Marsili notava nella sua mappa e dalla casa dove Marsili ha schizzato il suo disegno che si trova duecento metri a valle rispetto alla casa Codebo anzi Cadeco che attualmente si trova ed è un altro agriturismo della zona questa casa di aspetto più qualificato è una casa quattrocentesca che era di pertinenza del collegio del capitolo di San Pietro e successivamente è stata di pertinenza pontificia e quindi c'erano tutte le buone ragioni perché fosse ospitato per quei giorni o il giorno o la notte in cui ha dormito lì e ha preso questo schizzo proprio in quel posto allora e qui vedete ci sono anche le ghieiette eccole qui con i ciotoli dell'agriturismo di quella che oggi si chiama Cadicò non Cadibò ma Cadicò una variazione modesta poco lontano dall'edificio quattrocentesco immagini di questo tipo e di questo genere ne avete trovato ne potete trovare in questo volume della società geologica americana che di cui abbiamo fatto da editori il mio collega Coldwell e io nel 2006 ma su ogni immagine si potrebbe fare un romanzo come questo per esempio in cui c'è tutto l'Europa non c'è la Sardegna perché ai posteri al prossimo volta vi ringrazio e l'addendum però c'è un addendum che voglio lasciare eccolo qui proprio proprio in vista della splendida idea del centenario prossimo allora Stefano Marabini e io invitiamo l'Accademia delle Scienze a farsi parte e diligente perché la cava di gesso di San Rufillo pubblicata da Marsili nel 1698 nell'Acta Eruditorum Lipsia dove parla della pietra fosforica come primo tema e in cui vedete anche questo mi ha fatto sobbassare quando l'ho visto la prima volta c'è questo fogliettino grande così di mano di Marsili a matita con gli operai che lavorano con i picconi per liberare il gesso e sono stati ripresi dal stampatore che ha fatto la stampa per la pubblicazione e vedete che non è che aveva giunto molto alla mano di Marsili Marsili aveva un'ottima eccellente mano non di particolare ma per rendere l'idea di ciò che voleva rappresentare sempre l'immagine per poter tramandare ora questa è ancora conservata perfettamente c'è una parete alta una quarantina di metri era il fronte di Cava è privatizzata in maniera selvagge vero e proprio perché eh trenta metri davanti alla parete di Cava ci sono tre o quattro case hanno serrato chiuso noi che siamo andati per cercare di fare una foto da lontano abbiamo rischiato di essere speronati e ci hanno dovuto scappare veramente è un sito che a due passi da Bologna è a 500 metri dalla stazione di San Lazzaro è graficamente bellissimo è la strada che sende dalle eh dei ripetitori di Monte Donato quindi ci si potrebbe fare uno stop e un punto panoramico storico artistico scientifico sponsorizzato dall'Accademia delle Scienze tramite il parco dei Gessi che è parte dei Gessi bolognesi eccetera e tramite le istituzioni che vogliono curare questi aspetti della nostra storia del nostro patrimonio storico artistico geologico scientifico grazie allora Stefano Magnani verso l'anatomia del mare lo studio dei coralli di Marsili scoparsa la prima diapositiva buonasera a tutti non è un problema semplicemente il titolo innanzitutto desidero ringraziare il professor Tega e il dottor Simoni per questo invito devo dire che se il professor Brizzi diceva di trovarsi fuori luogo nel parlare di Marsili e dell'antichità e mi trovo fuori luogo ancora di più a parlare di Marsili e i coralli o Marsili e lo studio anatomico del mare se non diciamo per via di una certa curiosità ecco l'unica giustificazione è questa nel ricercare materiali marsiliani a volte si capita di fronte a pagine a figure a disegni immagini o testi che attirano ancora oggi spero che continueranno anche in futuro attirano la curiosità del ricercatore quindi lo spingono anche ad allargare gli orizzonti ovviamente dopo questi maestri il mio discorso risulterà chiaramente molto più limitato ringrazio gli organizzatori per l'invito oggi in questa sede prestigiosa così strettamente legata a Marsili e in cui dodici anni fa in occasione di un altro convegno marsiliano ho avuto l'opportunità di presentare una relazione sulle attività del giovane Marsili appunto a Costantinopoli e di cui in qualche modo oggi non farò altro che illustrare una delle tante linee di continuità e sviluppo negli anni successivi della sua carriera le attività svolte nel corso del viaggio giovanile a Costantinopoli infatti erano destinate a influenzare la vita futura del nobile bolognese ben oltre quello che egli stesso immaginava sia nell'ambito politico e militare sia in quello scientifico oltre che in altre direzioni il ritorno da Costantinopoli si imbatterà anche nelle antichità balcaniche il tema di allora il tema del convegno riguardava la costruzione della frontiera dell'impero e dell'Europa fondamentale negli anni centrali della vita di Marsili mentre oggi si tocca almeno nel sottotitolo un argomento più difficile ovvero la distanza sempre avvertita tra Bologna e Marsili che potrebbe distanza che però potrebbe essere estesa anche ad altri contesti non solo geografici in particolare considerando il filone scientifico delle sue attività per cui regolarmente nei corsi dei tre secoli ormai intercorsi si è assistito a temporane rinascite di interesse a riscoperte del ruolo e dell'attività scientifica marsiliana una vera riabilitazione in ambito scientifico e soprattutto per quello che riguarda le ricerche marine è avvenuta solo con il riconoscimento tributatogli ormai alla fine degli anni cinquanta dagli Olson che lo hanno identificato come il fondatore della moderna scienza oceanografica in particolare riguardo al tema oggetto oggi di questa mia relazione mare coralli proprio in anni recenti è stata sottolineata l'importanza del suo primo scritto il giovanile trattato osservazioni intorno al bosforo traccio che ha ricevuto una traduzione inglese nel 2009 e che è stato negli ultimi due decenni oggetto di numerose ricerche che ne hanno ribadito l'importanza non colta dai contemporanei e neppure in epoca successiva come esempio tra i primi di scienza sperimentale solo a partire da questo lavoro è infatti possibile comprendere gran parte delle ricerche che confluirono poi nell'histoire physique della Mer riedita non a caso nel 1999 quindi in anni tutto sommato a noi molto vicini che fu apprezzata tra gli altri da Immanuel Kant che in essa trovava certamente l'applicazione di alcuni principi da lui enunciati tra i quali la necessità della scienza per essere tale di superare i confini dell'apparenza sensibile a Costantinopoli più in generale nel bosforo le osservazioni irregolari lo scandaglio e alcuni altri semplici strumenti utilizzati da Marsili avevano consentito gli avevano consentito di intuire e poi di dimostrare l'esistenza di una corrente sottana che procedeva in senso contrario come è stato anche illustrato prima dal professor Vai rispetto a quella superficiale e che aveva effetti di rilievo nello scambio delle acque tra il Mediterraneo e il Mar Nero si trattava di una prima scalfittura della superficie Marina e con essa della apparente realtà delle cose che certamente derivava dall'esperienza fatta negli anni giovanili a Bologna Marsili in realtà era giovanissimo all'epoca ma aveva già avuto modo in quel momento come si è già detto in precedenza di frequentare importantissimi scienziati e studiosi che venivano dalla scuola galileiana che venivano dall'Accademia del Cimento o comunque che erano stati influenzati da questa a loro volta quindi ripeto i nomi Malpighi Montanari Trionfetti o Cassini e proprio grazie al loro insegnamento che Marsili acquisì la passione per la scienza applicata alla soluzione di problemi concreti attraverso gli esperimenti sul campo e l'osservazione diretta dei fenomeni naturali proprio con Montanari nel 1678 si recò a Padova dovebbe la possibilità di seguire le lezioni di anatomia tenute da Marcello Pighi dalle quali rimase fortemente impressionato come scrive a più riprese nelle lettere inviate a Malpighi fu così che approfittando dell'occasione offerta di accompagnare il bailo veneziano a Costantinopoli nel 1679 Marsili intraprese l'esplorazione del mare e in generale dei fenomeni acquatici facendo propri principi e le metodologie utilizzati nello studio anatomico del corpo umano e attattandoli ad altre realtà naturali per ricostruire dal particolare l'universale Marsili era ben conscio dell'importanza delle prime ricerche e lo ricorda sebbene nella prefazione dell'Espare Physique che venne pubblicata solamente nel 1725 ricorda bene di aver lavorato per la prima volta a questo tipo di indagini quando ancora giovanissimo si trovava a Costantinopoli e poi di essere tornato al lavoro su queste tematiche in occasione di un altro soggiorno realizzato fra il 1691 e il 1692 sempre a Costantinopoli sempre nell'histoire Physique ricorda anche che la sua opera è in effetti una vera e propria anatomia delle coste e delle rive del mare ora rientrano all'interno di questo ambito di ricerca anche i suoi studi sulla natura del corallo studi che furono condotti tra i mille in modo particolare tra i 1706 e i 1708 a Cassì quando quella prima scalfittura che aveva realizzato a Costantinopoli quella prima scalfittura della superficie marina si sarebbe trasformata in un vero e proprio abisso che avrebbe consentito a Marsili di affrontare lo studio dei fondali marini del Mediterraneo in seguito alla caduta in disgrazia successiva alla sconfitta di Braizac infatti Marsili riprese gli studi scientifici riguardanti il mare con l'intenzione di studiare il rapporto strutturale tra le terre emerse e il loro prolungamento sommerso quindi nascosto dalle acque del mare allo scopo di scrivere un trattato sulla storia fisica del mare a Montpellier a Cassis attrezzò la propria abitazione per effettuare analisi chimiche osservando da vicino l'ambiente marino uscendo in mare con i pescatori locali per indagare le profondità del fondale le caratteristiche dell'acqua marina le varie forme di vita presenti sia nell'acqua che appunto nei suoi fondali nelle sue indagini egli fu spesso accompagnato da naturalisti locali come Guillaume Nissol François Xavier Bon o Peressol il medico Peressol il cui figlio poi si sarebbe occupato a sua volta dei coralli in questa occasione Marsili si interessò in modo particolare del corallo per la cui pesca adattò alcuni strumenti che erano utilizzati dai pescatori Marsili effettuò alcune semplici prove chimiche su rami di corallo pescati che ne dimostravano la natura alcalina si trattava di prove che altri Tournefort Geoffroy avevano realizzato in quegli anni e che indicavano o potevano essere interpretate in relazione a interpretazione di queste realtà non come pietre ma come esseri viventi i primi risultati delle ricerche furono presentati nel corso di due sedute della Société Royale des Sciences de Montpellier nel corso dell'agosto del 1706 e i soci diciamo società di cui faceva parte entrò a far parte Marsili e i cui soci seguivano con interesse le indagini dell'illustre ospite in quell'occasione nonostante appunto le prime analisi chimiche Marsili espresse la convinzione che il corallo caratterizzato da crescita e concrezioni avesse una natura minerale e che crescesse alla maniera dei cristalli era influenzato da tutta una serie di ricerche effettuate nelle miniere dell'Europa centrale negli anni precedenti e d'altra parte questa era un'idea condivisa dalla maggior parte degli studiosi che se ne erano occupati fin dall'antichità a Montpellier non tutti accolsero con favore l'opinione di Marsili e si aprì o meglio si riaprì un dibattito che sarebbe stato destinato a durare sostanzialmente mezzo secolo e che è stato ben illustrato e documentato negli ultimi anni dai lavori di Anita McTocconnell che con attenzione descrive l'interazione reciproca tra Marsili e gli studiosi e i membri della società di Montpellier e dell'Accademia di Parigi in particolare il botanico Pierre Magnol gli rispose in una seduta nel corso del mese di settembre sostenendo la natura vegetale del corallo e questo indusse Marsili nel mese di dicembre a tornare a effettuare una raccolta di rami di corallo che decise di conservare in acqua in condizioni di temperature e salinità simili a quelle originali nelle quali il corallo era cresciuto si era formato fu in tal modo che l'otto dicembre egli potè scoprire che questi rami erano fioriti questo fenomeno fu confermato da ulteriori esperienze a dir il vero non tutte positive e dall'anatomia condotta sui rami di corallo in base alla quale egli trovò che la crosta calcarea del corallo che si staccava facilmente quando era fresco di mare copriva delle piccole celle piene di una linfa acre o lattice attraverso l'osservazione fenomenica l'analisi morfologica e l'esame chimico seguendo i principi metodologici sperimentali annunciati da Bacone e Galilei Marsili giunse alla conclusione questa volta che il corallo possedesse una natura vivente e si convince in particolare che si trattasse di una pianta che egli aveva potuto di cui aveva potuto osservare l'efflorescenza una serie di lettere ad accademici francesi e la pubblicazione di due di esse sul giornal del Savon sancirono tale scoperta definitivamente affermata anni dopo nel 1711 nel breve ristretto del saggio fisico sulla storia del mare e infine nell'histoire physique della mare il dibattito proprio nel 1725 quando uscì l'histoire physique della mare era più che mai aperto in realtà proprio in quell'anno a Tunisi Jean-André Pessonnel figlio di quel medico che aveva collaborato con Marsili medico di Marsilia e che da ragazzino aveva frequentato e anche probabilmente assistito agli esperimenti di Marsili interessato a questo tipo di indagine aveva finalmente scoperto che in realtà il corallo o meglio i fiori di corallo studiati da Marsili non avevano una natura vegetale ma si trattava di insetti come li definivano all'epoca o meglio di polipi le osservazioni di Pessonnel furono però trascurate per alcuni decenni ora durante il soggiorno a Cassis e la condizione delle ricerche marine Marsili rimpiange ho saltato un'altra pagina vediamo rimpiange l'assenza di alcuni particolari documenti che egli era solito avere con sé come ben noto i suoi spostamenti erano infatti seguiti dal trasferimento di un'enorme quantità di testi registri e documenti di ogni genere che oggi in buona parte compongono quello che è l'archivio conservato presso la biblioteca universitaria di Bologna nel caso specifico egli ricorda di essersi trovato privo della sua prima pubblicazione sulle correnti del Bosforo e di una serie di osservazioni rimasti inedite di documenti manoscritti che aveva realizzato durante il soggiorno compiuto tra il 1691 e il 1692 a Costantinopoli per quanto riguarda le ricerche condotte in quest'ultima occasione nella prefazione dunque parla in termini generali nella prefazione dell'histoire physique parla in termini generali delle tematiche marine ma nell'autobiografia egli menziona sia pure in forma del tutto cursoria anche il corallo fra gli oggetti delle sue indagini ora senza questa documentazione che risaliva dunque a parecchi anni prima Marsili evitò di tornare sull'argomento delle correnti marine del Bosforo e anche su altre questioni riguardanti i movimenti delle acque tuttavia all'epoca si trattava dal suo punto di vista di una rinuncia di un vuoto di documentazione che doveva essere solo temporaneo ora incuriosito da questo accenno a suo tempo ho cercato di individuare il materiale risalente a tale soggiorno 1691-92 presso la biblioteca universitaria di Bologna e anche negli archivi viennesi dai quali ultimi emerge la ricca corrispondenza di natura interesse politico militare e diplomatico ma nulla in relazione al corallo qui potete vedere una delle tante pagine cifrate con testi cifrati che lettere che Marsili da Costantinopoli inviava allorché era incaricato sì di accompagnare come segretario l'ambasciatore inglese ma in realtà appunto di riferire all'imperatore d'Austria tutto ciò che avveniva in tale veste quindi di spia più che di segretario o però per gran parte dei mesi finali del 1691 fino a quando la scomparsa dell'ambasciatore e i rapporti ostili da parte della comunità inglese non lo indussero a ritirarsi da parte temporaneamente e questo gli lasciò modo però all'inizio del 1692 di tornare ai suoi amati studi sulle correnti sulle acque sui pesci sulle piante del Bosforo ed è proprio in questo caso appunto che gli ricorda ripeto molto brevemente di aver anche intrapreso degli studi sul corallo più fruttuosa si è rivelata invece la ricerca presso l'archivio bolognese in particolare all'interno del faldone contenenti documenti predisposti per la stesura del trattato della struttura del globo terreo che fu probabilmente da un certo punto di vista l'opera più ambiziosa concepita da Marsili ma al tempo stesso anche la più sconosciuta di tutte e che avrebbe dovuto raccogliere la suma delle sue esperienze scientifiche l'opera finale di una vita dedicata a indagini ricerche osservazioni l'opera era già annunciata nell'histoire physique e la sua realizzazione era dunque iniziata da tempo sicuramente dall'epoca del soggiorno in Provenza ma non fu mai completata Marsili vi lavorava vi lavorò nel 1727 1728 dalle date che si possono ricavare tuttavia la documentazione scritta e i disegni conservati a Bologna permettono di apprezzare appieno la qualità e il significato dell'attività di ricerca che vi avrebbe dovuto trovare espressione e di trovare anche una sua coerente collocazione nel contesto scientifico coevo Marsili con la sua consente attenzione aveva delineato la struttura del volume e aveva iniziato a preordinare disegni schede materiali alquanto diversi organizzati secondo precisi schemi egli stava lavorando appunto nel 1927 eh allorché decise proprio per eh affrontare la tematica delle acque e dei loro movimenti sulla superficie del globo di rivedere e trascrivere con cura maniacale i vecchi diari appunti presi durante i viaggi a Costantinopoli pagina per pagina venne accuratamente riscritta e anzi in maniera molto più leggibile rispetto all'originale oltre oltre alle diverse scheda e prostruttura orbis terraqui raccolte in questo fallone è da prendere in considerazione il manoscritto 110 storia dei pesci e delle piante del canale di Costantinopoli la cartella è intitolata diverse piante terrestri e marine del canale di Costantinopoli costituita da quattordici tavole a colori con spiegazioni e annotazioni esso fornisce una traccia di uno dei più concreti campi di indagine di cui Marcilli si interessò a Costantinopoli quindi nel 1692 lo studio appunto della natura del corallo le diverse piante sono accuratamente illustrate nel loro aspetto esteriore ma i testi che accompagnano queste illustrazioni e forse anche i disegni stessi sono il frutto di successivi momenti di rielaborazione forse a partire da schizzi e brevi annotazioni la cui esistenza si intuisce sulla base appunto dei commenti sono indicazioni anche sulle dimensioni rispetto al disegno sulle dimensioni dell'originale e inoltre questi commenti furono certamente aggiunti dopo le ricerche effettuati in Provenza perché Marsili appare cosciente della natura vegetale del corallo e orgoglioso del suo ruolo di inventore del particolare tipo di pesca che aveva escogitato durante quel soggiorno per riassumere brevemente gli studi sulla natura del corallo rivelano alcune delle caratteristiche della ricerca e dei metodi fatti propri da Marsili e costituiscono in fondo uno specchio fedele della sua vicenda storica e della sua complessa personalità essi sono frutto di ricerche condotte in momenti e in luoghi diversi tramite osservazioni dirette sperimentali di natura chimica e fisica che indussero a produrre delle prove dirette della natura vivente del corallo l'errore di Marsili nell'individuazione della natura vegetale e non animale del corallo fu in realtà un successo in primo luogo perché raggiunto attraverso l'applicazione di un metodo di indagine scientifico sperimentale e basti pensare all'intuizione della necessità di riprodurre in laboratorio le condizioni dell'ambiente marino che è straordinaria e che preclude qualsiasi possibilità di pensare a una casualità della scoperta e come tale va oltre il risultato singolo raggiunto per costituire un caposaldo della scienza moderna ovvero superare l'apparenza del sensibile anche se proprio nel caso del corallo il principio bacconiano della verifica empirica pur messo in atto non fu adottato fino in fondo ma generò una convinzione che rimase inammovibile anche quando il corallo fu riconosciuto o meglio fu riconosciuto dalla sua natura animale ma anche questo è un riflesso della personalità di Marsigli in secondo luogo perché i suoi sforzi aprirono una prospettiva nuova in questo campo di ricerca ravvivando un dibattito che pochi anni dopo avrebbe portato appunto alla scoperta definitiva della natura animale del corallo infine perché con la convinzione che sia possibile dedurre il generale dal particolare tali ricerche si collocano come atomi come scrive gli stesso in un sistema complessivo che inizialmente è il mare e che alla fine vuole essere il globo terreo grazie per l'attenzione allora Ilaria Bortolotti ci parla della biblioteca di Marsigli come si fa una come si forma una biblioteca nel settecento tanto che prepariamo la presentazione eh mi saluto buonasera a tutti a tutti ci sente si ringrazio ovviamente il professor Tega e il dottor Simoni per l'invito resistete ancora un po' grazie per aver resistito finora sia voi che siete qua sia chi è collegato da casa eh ma ringrazio veramente per l'invito non solo per Galateo perché tornare ad occuparmi di Marsigli è sempre un piacere perché è una figura centrale per i miei studi è stata dedicata a lui sia la mia tesi di laurea magistrale sia la mia tesi di dottorato quindi sono abbastanza monogama dal punto di vista delle ricerche e in realtà in realtà poi la mia carriera accademica non è proseguita dopo il dottorato e sono diventata una sono diventata responsabile di una biblioteca pubblica quindi io sono veramente forse un ospite un po' estraneo un corpo un po' estraneo in questa però appunto ritornare ad occuparmi di Marsigli dopo cinque anni da tesi di dottorato con questo mio nuovo ruolo professionale mi ha dato la possibilità di rileggerlo anche con una proprio una maggiore consapevolezza mi sono occupata per la tesi magistrale della sua biblioteca e del suo rapporto con i libri su come appunto ha creato la biblioteca dell'istituto partendo dalla propria biblioteca personale e quindi vorrei aprire il mio intervento con una citazione che tra l'altro per una sorta di circolarità è comparsa anche nel primo intervento della professoressa Angelini e che si trova in quelle lamentele che rivolge Marsigli per lo stato di abbandono dell'istituto in particolare della biblioteca che si trova nel volume delle memorie riportato da Ettore Bortolotti che non era mio parente però evidentemente Bortolotti hanno questa affinità con Marsigli c'è anche Marco Bortolotti che si è occupato non so perché è una casualità nelle librerie pubbliche e massime in quella dell'istituto non si vede veruno che la frequenti dolendosi che nell'estate vi sia caldo e nell'inverno freddo e se sia possibile di studiare senza libri ogni uomo sano lo giudicherà realizzando queste righe la loro drammatica attualità mi è apparsa con grande forza appunto perché da bibliotecaria vedo soprattutto dopo durante la pandemia quindi dopo il lockdown che le biblioteche veramente si sono svuotate la crisi della biblioteca pubblica in realtà era cominciata già da prima però diciamo che la pandemia l'ha sicuramente portata alla luce con grande forza con grande evidenza questa breve introduzione solo per sottolineare oltre alla grande attualità di Marsigli che mi colpisce sempre molto ci porta subito nel vivo delle sue riflessioni teoriche sulle biblioteche riflessioni che poi nella pratica si traducono appunto nella realizzazione della biblioteca dell'Istituto delle Scienze uno dei primi contributi sulla biblioteca dell'Istituto si trova nel catalogo della mostra i materiali dell'Istituto delle Scienze del 1979 dove si ripercorrono le vicende della collezione con le accessioni settecentesche ma quello che interessa a me invece è quello che avviene prima della donazione marsigliana all'Istituto delle Scienze e quindi ricostruire come si forma la biblioteca personale di Marsili prima di essere destinata all'uso pubblico e rendere anche conto di tutto l'impegno tutto il lavoro che tutto l'impegno che Marsili mette nella creazione di questa collezione e giustificare anche appunto la sua rabbia poi quando vede che la biblioteca non è sfruttata dai contemporanei come invece avrebbe meritato fino al 1699 Marsili aveva raccolto un patrimonio librario e documentario molto consistente formato dai seguenti nuclei questi che vedete rappresentati nella slide i manoscritti orientali di cui era entrato in possesso soprattutto durante la sua carriera militare diplomatica a servizio dell'imperatore d'Austria quindi il bottino dei manoscritti orientali di Buda un piccolo gruppo di manoscritti greci comprati Costantinopoli poi sulle biblioteche come bottini di guerra è un argomento veramente molto interessante ma rimando alla storia delle biblioteche di Barbier dove è trattato diffusamente poi libri a stampa inerenti ai suoi interessi di studio personali e acquistati in modo mirato e infine i vari documenti necessari all'attività militare diplomatica e scientifica che Marsili conserva scrupolosamente di spacci relazioni ufficiali mappe qui ho rappresentato la famosissima mappa dell'Armenia restaurata nel 2017 recentemente nella volontà di salvare i manoscritti trovati a Buda Costantinopoli Marsili non sembra spinto da criteri estetici quanto dal valore documentario per l'oggetto libro dell'oggetto libro come testimoni di un passato che rischia di essere dimenticato è chiaro che Marsili è un collezionista sui generis perché la sua attività di raccolta non è finalizzata una fruizione superficiale è un godimento estetico appunto non è un biblofilo si procura oggetti e documenti che siano coerenti con le sue esigenze di informazione in abito professionale e scientifico e il cui valore risiede soprattutto nel loro contenuto questo criterio si riscontra non solo nelle collezioni dei libri e documenti ma anche in tutte le altre raccolte mineralogiche naturalistiche archeologiche eccetera tuttavia il valore informativo documentario attribuito da Marsili ai manoscritti poteva essere sfruttato solo se messo a disposizione di un pubblico di studiosi dotati di specifiche competenze soprattutto linguistiche se pensiamo ai manoscritti orientali lo studio delle lingue orientali nell'Europa di Marsili soprattutto nel mondo cattolico non era molto diffuso e si doveva misurare con la generale diffidenza verso la cultura islamica Marsili che non era un esperto di lingue orientali ma era ben conscio della loro importanza nei rapporti diplomatici tenta in vano di introdurre questi studi a Bologna al momento della fondazione dell'istituto però la raccolta dei manoscritti orientali vuole essere uno strumento per cui i bolognesi desiderosi di intraprendere la carriera diplomatica per i quali le lingue del vicino oriente erano uno strumento di lavoro necessario Marsili non entra però in possesso di documenti solo appunto grazie ai bottini di guerra ma anche ricorre ai canali di acquisto più tradizionali quelli utilizzati dagli studiosi dagli oroditi del suo tempo che a differenza sua non potevano partecipare a campagne militari in genere almeno nel fondo dei manoscritti marsiliani della biblioteca universitaria si trovano diverse lettere che testimoniano il processo di formazione di questa biblioteca di libri a stampa abbiamo indicazioni riguardo i libri che Marsili acquistava quindi elenchi di libri inviati dai librai o dagli agenti con i presti oppure avvisi di spedizione note di pagamento insomma tutta una serie di documenti che ci permettono di ricostruire lo sviluppo della raccolta e in molti casi riusciamo a ritrovare i libri acquistati che vediamo citati nella corrispondenza anche nelle collezioni della biblioteca universitaria è il caso ad esempio di questi due volumi che vengono citati nella corrispondenza del medico bolognese Rinaldo Duglioli che acquistava libri per Marsili sul mercato veneziano Duglioli in quel periodo alla fine del seicento risiedeva a Bologna quindi mandava a Marsili a Bologna il mandava a Marsili i libri che lui richiedeva il fatto che siano di Marsili è chiaro perché ci sono le armi del conte impresse sui due piatti della coperta oltre a Duglioli Marsili acquista libri anche presso i librai olandesi ovviamente perché l'Olanda era uno dei mercati librai più importanti adesso la professore Segmont avrà la sua modo di riscattarsi perché dovrò citare un nome olandese no no è il libraio Adrian Mutiens spero che si dica così attivo prima a Nimega e poi a Laia era specializzato questo libraio nella pubblicazione libraio stampatore nella pubblicazione di trattati di pace e in una lettera del 1699 consiglia a Marsili di ordinare gli actes de mémoire de negociation de la pae de Riesvik spero si dica la cui stampa era da poco ultimata l'opera è presente tra i libri eh donati da Marsili all'Istituto delle Scienze la troviamo anche qui eh in un in uno degli inventari di inizio settecento e quindi è probabile che Marsili abbia seguito il consiglio del libraio e l'abbia effettivamente acquistata altre liste di libri si trovano nel manoscritto Marsili centoquattro eh che contiene alcuni inventari redatti dagli astronomi eh Johann Christoph Müller e Georg Christoph Einmard di Norimberga infatti nel millesettecento due Marsili mh era passato per la città tedesca mentre si trasferiva da Vienna al confine Renano dove poi ci sarà la la famosa disfatta di Braisach e mh e in questo passaggio per la città di Norimberga aveva lasciato agli amici eh Müller e Heimert parte dei suoi effetti personali che poi erano stati spediti da lì a Bologna la maggior parte dei libri elencati eh negli inventari di Müller e Heimert è rappresentata da opere di medicina e scienze naturali eh è presente un solo libro libro militare eh nell'inventario la cosa interessante è che figurano alcuni libri stampati a Norimberga come la biblioteca Noribergensis di Saubert eh che è particolarmente interessante perché ci dà conferma della grande attenzione di Marsili per la storia delle biblioteche infatti eh Saubert l'autore traccia la storia della biblioteca di Norimberga e offre un catalogo degli incunaboli della appartenenti alla biblioteca la presenza di libri editi nella città eh testimonia che probabilmente i materiali affidati da Marsili ai due astronomi erano stati poi integrati con acquisti in loco questa è una eh da un'idea ma ma mancano delle città in realtà perché poi eh altri acquisti di libri sono stati fatti a Parigi tramite Cassini però diciamo è un work in progress che che sta lì da cinque anni però va bene ehm all'inizio del settecento in seguito al collezionismo degli anni precedenti come abbiamo visto talvolta eh in occasioni fortuite talvolta ma spesso anche eh guidato da scelte mirate Marsili comincia a disciplinare la propria raccolta di libri e documenti e a riflettere sull'importanza delle biblioteche sia nella storia che nel presente come fulcro su cui impegnare la formazione degli uomini di scienza e degli uomini di stato in esperienze europee i contatti personali ed epistolari con diversi studiosi gli offrono una prospettiva critica da cui guardare le istituzioni culturali della propria patria e lo spingono a formulare eh proposte di riforma delle strutture accademiche bolognesi come sappiamo non non c'è bisogno di di insistere ehm l'idea dell'accademia scientifica è ehm si può collocare intorno al mila settecento due e a questa data Marsili aveva già mandato a Bologna la sua biblioteca e le sue collezioni che erano state affidate alla custodia di Eustacchio Manfredi che è qui che veglia su di me e a partire dal mila settecento mila settecento uno Manfredi diventa infatti il principale interlocutore di Marsili per quanto riguarda l'allestimento di quello che chiama il suo studio che avrebbe ospitato oltre ai libri anche gli strumenti per le osservazioni astronomiche che come sappiamo necessitavano di essere rilanciate a Bologna eh in una lettera del dicembre mila settecento uno Marsili spiega ehm Manfredi spiega come ha organizzato la recessione dei materiali e specifica anche quali sono le accortezze da utilizzare nel caso qualcuno voglia prendere in prestito i libri dello studio marsiliano nessuno poteva prendere in prestito i libri tranne eh l'elio trionfetti e geminiano rondelli a cui era permesso di prendere in prestito però coperti con carta in modo da non danneggiare la legatura quindi c'è questa cortessa ehm però emerge già chiaramente l'intenzione di Marsili di destinare la propria raccolta libraria a un uso pubblico seguendo una tendenza tipica dell'epoca eh è questo infatti il periodo d'oro delle collezioni private che aprono al pubblico ehm soprattutto in Francia dove accanto alle biblioteche di ecclesiastici di nobili eh lo stesso sovrano apre al pubblico la biblioteca reale nel 1692 seguendo i maggiori esempi europei anche Marsili vuole destinare la propria raccolta alla pubblica utilità per fornire un supporto agli studi alle attività sperimentali dell'Accademia degli Inquiti prima e dell'Istituto delle Scienze poi Gli inventari delle collezioni eh inviate a Bologna sono contenuti nel già citato volume eh della BUB Marsili 104 dove è registrato il contenuto di alcune casse che ci forniscono una precisa immagine della biblioteca accumulata fino ai primi anni del Settecento da Marsili eh nella quale si rispecchiano diversi aspetti del suo profilo di lettore e di studioso in primo luogo eh possiamo rilevare un consistente numero di opere necessarie per ragionarsi sulle competenze richieste dalla sua professione quindi abbiamo tutti i libri relativi all'arte militare tutti i libri che potremmo definire appartenenti alla categoria del politico quindi le raccolte di trattati di pace le opere di eraldica quindi tutto quello che serviva per le trattative diplomatiche e poi ovviamente abbiamo i testi eh relativi alle scienze che Marsili coltivava dalla giovinezza ehm quindi la medicina le scienze naturali la botanica il filone dell'antichità poi particolarmente interessante per questa indagine è la presenza di alcuni cataloghi di libri che offrono una testimonianza della volontà di Marsili di censire la propria biblioteca e incrementarne il posseduto eh uno di questi è la biblioteca vittiana che è un catalogo d'asta eh di una biblioteca privata particolarmente rilevante perché è probabile che Marsili abbia sfruttato le notizie bibliografiche e nel suo contenute per ampliare la propria biblioteca ma lo vediamo tra un attimo dopo aver inventariato i materiali ricevuti tra il 1702 e il 1703 i collaboratori bolognesi che oltre a Ostancio Manfredi eh è anche Niccolò Maria Guicciardini che era l'amministratore dei beni di Marsili Manfredi e Guicciardini mandano eh gli elenchi eh degli inventari a Marsili che può utilizzarli come punto di partenza per ragionare sulle possibili eh linee di sviluppo nella propria biblioteca affinché sia coerente con il progetto di Accademia Scientifica che sta coltivando gli iscritti marcelliani che si occupano di biblioteca risalgono i primi anni eh del settecento e sono oltre al già citato discorso sulla biblioteca di Buda il proietto per formare un'esatta libreria e l'idea dell'istituzione della biblioteca di sua eccellenza il signor generale Conte Marsigli esclusi libri legali e poetici dei quali non se ne vuole nella medesima è proprio uno scritto sono proprio scritti programmatici sono una sorta di carta delle collezioni adesso le biblioteche adottano la carta delle collezioni che è un documento dove vengono fissati i criteri per l'incremento delle raccolte e anche per individuare una vocazione specifica della biblioteca l'importanza di questi iscritti è stata sottolineata da Raffaella Gherardi che ha preso in esame in particolare il proietto per formare un'esatta libreria il manoscritto che è il Marsigli 85G è costituito da un elenco di circa 3.300 titoli che sono stati trascritti da un catalogo da un repertorio bibliografico che è il catalogus Universalis Librorum di John Hartley la scelta dei libri che devono formare l'esatta libreria indicativa della composizione desiderata da Marsigli per la biblioteca dell'Accademia che sta immaginando ovviamente con una preponderanza delle scienze matematiche e naturali e delle discipline relative alla storia dei popoli delle nazioni delle casate quindi tutto quello che è la classe del politico Marsigli non è il primo a progettare una biblioteca reale seguendo dei criteri prefessati in un documento appunto programmatico il primo a farlo è stato Gabriele Nodè che partendo dalla sua opera Ad vi pur dresser un bibliotec del 1627 che è considerato il primo trattato di biblioteconomia su quell'opera realizza la biblioteca mazzarina negli anni 40 del 600 dal catalogo di Hartley il proietto di Marsigli riporta ben 459 lessici questo dato non deve stupire sono 755 libri matematici e lessici sono 459 però questi sono strumenti bibliografici che sono caratterizzati da un'utilità trasversale e si rendono necessari in ogni settore disciplinare nell'idea dell'istituzione Marsigli descrive più nel dettaglio le tipologie di opere che la classe dei lessici deve offrire questa parte nei tempi moderni si è fatta non solo necessaria in una libreria ma è divenuta un estratto molto comodo delle scienze già che quasi da ogni scienza si sono fatti nuovi lessici e biblioteche edizionari che sotto diversi nomi non sono che lessici effemeridi acta eruditorum giornale dei literati molti sono già mandati intende a Bologna ed il resto che manca si annoterà per provvederlo con i termini lexici Marsigli indica una classe molto ampia che comprende quindi indici biografie bibliografie cataloghi librari i periodici scientifici quindi tutti gli strumenti utili a orientarsi in una produzione letteraria che nel settecento dava ormai l'impressione di essere sterminata incontrollabile tra il settecento infatti la produzione di libri a stampa conosce un incremento esponenziale e di conseguenza aumenta la circolazione dei saperi veicolati dai testi a stampa si avverte così la necessità di organizzare questo sapere e per questo molti sono gli autori che tentano di raccogliere e sistematizzare la produzione editoriale attraverso opere bibliografiche Marsigli è ben consapevoli di quanto i repertori bibliografici ovvero quelle che con un termine corrente potremmo definire le opere di consultazione fossero uno strumento di grande utilità in quanto permettevano di isolare all'interno di uno sterminato universo documentario le opere da acquisire per una biblioteca reale caratterizzata da obiettivi concreti e precisi uno di questi strumenti bibliografici è proprio il catalogo di Hartley che è alla base del proietto ma nella biblioteca marsigliana troviamo molti altri esempi di bibliografie come la già citata biblioteca vittiana nella biblioteca universitaria di Bologna sono presenti due esemplari della biblioteca vittiana e uno sicuramente marsigliano perché come al solito ha le armi impresse la biblioteca vittiana è un catalogo di libri a stampa e manoscritti appartenuti alla biblioteca privata di Johan de Witt importante uomo politico olandese spero che l'esemplare marsigliano rappresenta molti titoli evidenziati a margine da semplici linee matita non so se si vede dalla foto comunque ci sono delle linee forse tracciate da Marsigli stesso o da un suo collaboratore comunque probabilmente in vista di futuri acquisti solo alcune sezioni della biblioteca vittiana presentano titoli evidenziati come mostrato da questa tabella che rielabora l'articolazione interna della biblioteca vittiana suddivisa in base ai formati e ripartiti a loro volta in classi ad una prima osservazione le classi dove ci sono delle segnalazioni sono quelle con l'asterisco a una prima osservazione le scelte operate sono conformi a quanto asserito da Marsigli nell'idea dell'istituzione della biblioteca in cui si prevede l'esclusione di libri giuridici e poetici quindi vedete che non sono stati minimamente considerati sono invece segnalati molti libri storici filosofici medici antiquari nomisimatici e ovviamente i nostri lessici e bibliografie che è chiaro dunque che rappresentano una base fondamentale su cui erigere riflessioni teoriche circa la biblioteca ideale e da cui trarre indicazioni pratiche poi per realizzare una raccolta reale una volta individuati questi criteri anche grazie all'uso dei repertori bibliografici e delle opere di consultazione Manfredi si affida all'Elio Trinfetti o Stacchio Manfredi per incrementare la dotazione della biblioteca Trinfetti segnala ovviamente opere di botanica di filosofia naturale perché era la sua materia e Manfredi i testi di matematica astronomia geometria oltre alla biblioteca universitaria diversi elenchi diversi elenchi di libri suggeriti da Manfredi e anche da Vittorio Stancari si trovano nell'archivio del dipartimento di astronomia che li ha riprodotti digitalmente e si trovano sul sito dell'archivio storico del dipartimento e la biblioteca marsiliana con gli acquisti suggeriti da Manfredi Trinfetti e Stancari aumenta progressivamente intorno al 1703 come risulta dagli inventari constava di circa 130 titoli Marsili in una lettera dice 200 ma forse riferendosi ai volumi e quando passa all'istituto delle scienze nel 1712 è formata da circa 1500 titoli una buona dotazione ma che non poteva competere in realtà con i modelli europei ritornando all'esempio di prima di Gabriele Nodè il bibliotecario di Mazzarino con un incessante lavoro di acquisto e recupero di fondi librari riesce in meno di un decennio a portare la biblioteca Mazzarina da 2000 a 40.000 la volumi cifre però diciamo che Nodè faceva solo quello di lavoro insomma quindi ma la vocazione di Nodè è quella di costruire una biblioteca enciclopedica perché scrive nel suo advi una biblioteca fatta per il pubblico deve essere universale e non può essere tale se non contiene tutti i principali autori che hanno scritto su ogni argomento e in ogni campo e in particolare su tutte le arti e tutte le scienze Marsili però non aspira a una biblioteca universale ma circoscritta alle discipline che avrebbero costituito il cuore del progetto formativo dell'istituto da lui progettato gli acquisti avrebbero dovuto limitarsi come scrive una lettera a trionfetti a testi scientifici sempre aggiornati agli strumenti necessari per compiere per compiere esperimenti e ad oggetti da destinare alle colazioni mineralogiche naturalistiche e archeologiche ciò nonostante Marsili prevede di destinare una parte delle risorse anche ai lessici le grammatiche delle lingue varie del mondo e a quelli rari manoscritti che capitassero in ogni lingua scrive sempre a trionfetti l'importanza attribuita agli strumenti di apprendimento linguistico merita un'attenzione particolare in quanto lo studio delle lingue straniere come abbiamo detto soprattutto orientali rappresenta nel panorama culturale bolognese dell'epoca una delle proposte più innovative del progetto marsiliano l'intenzione di Marsili di avviare a Bologna l'insegnamento delle lingue orientali era chiara già all'inizio del settecento nell'idea dell'istituzione della biblioteca dove sotto la dicitura lingue erano compresi lexici e grammatiche delle lingue araba persiana turca caldea siriaca ebrea greca e lirica tedesca inglese francese spagnola italiana con le europee in fondo perché si davano più per scontate Marsili lamentava il fatto che questa materia fosse trascurata a Bologna e voleva invece che nella sua biblioteca avesse un ruolo di primo piano molto già mandato in Bologna scrive e molto di più per le lingue orientali si potrà avere di Roma dove questi studi a beneficio della propaganda fide si praticano e le autore o volume di questa si inseriranno nel nostro catalogo nel parallelo dello stato moderno dell'università di Bologna con le altre di là dei monti scritto alla fine del 1709 Marsili ribadisce l'importanza degli studi linguistici non solo per la lotta l'eresie ma anche perché sono parlate da tante nazioni fuori d'Europa introduce così un riferimento alla possibilità che le lingue offrono per la carriera diplomatica e per i commerci e a sostegno delle supposizioni cita l'esempio dell'imperatore Austria che aveva al suo servizio tutta una serie di interpreti di cui si servirà anche Marsili stesso tutti istruiti a Vienna ma così come l'Istituto delle Scienze proponeva un modello troppo all'avanguardia che appunto fa di Marsili il mancato profeta in patria anche le iniziative per promuovere attraverso il suo fondo di manoscritto orientale lo studio delle lingue a Bologna non incontrano il favore del contesto accademico i tentativi intraprese da Marsili per far conoscere il fondo orientale per dotare l'Istituto addirittura di una cattedra di lingue orientali falliscono nell'indifferenza generale la delusione del fondatore dell'Istituto per questo atteggiamento ostile con cui erano state osteggiate le sue idee è evidente appunto nella denuncia citata in apertura e quindi questo suo intuire questo suo presagire che la biblioteca pubblica la biblioteca destinata al pubblico se deserta è sintomo che qualcosa non va che è sintomo di un impoverimento culturale dell'intera città forse ci dovrebbe far riflettere se la crisi delle biblioteche pubbliche anche davanti ai nostri occhi a distanza di tanto tempo è ancora sintomatica di qualcosa quindi forse questi segnali di crisi dovrebbero essere presi in considerazione non solo da chi nelle biblioteche ci lavora ma da tutta ehm da tutto il contesto culturale e accademico eh che gravita attorno alle biblioteche io ho terminato allora lascio le conclusioni doverosamente al presidente dell'Accademia delle Scienze il professor Tega grazie sì io faccio qualche osservazione perché l'ora è tarda e perché avevamo più o meno stabilito di concludere intorno alle sei e mezza eh beh intanto ringrazio tutti quelli che hanno dato un contributo molto importante oggi per questo seminario poi lo stoicismo di che era esistito fino in fondo al seminario che mi sembra anche un elemento ora io volevo dire una cosa noi abbiamo dicevo all'inizio che cominciamo ora una nuova riflessione e sottolineo un po' nuova riflessione su Marzili cominciando proprio non solo dal titolo ma da alcune relazioni che oggi sono state proposte cioè a dire perché poi alla fine Marzili è straniero in patria questo è un primo elemento che mi sembra noi dovremmo porci probabilmente è anche colpa degli studiosi non lo so c'è un problema o della città come è stato detto però Marzili rappresenta una innovazione fondamentale nella situazione culturale bolognese non perché non era né Galilei né Copernico era un generale modesto era un ricercatore molto attento direi capace anche di intendere le linee di culturali scientifiche del tempo fino in fondo anche di applicarle aveva buoni maestri ma anche buone letture perché alcuni di quei libri Marzili li comprava perché poi pensava di leggerli e in parte li ha anche letti poi voleva sistemare anche una biblioteca ma anche la passione che Marzili pone nel raccogliere i libri nel raccogliere oggetti nell'osservare tutto eccetera è figlia di un momento particolare della cultura europea che è un momento di una cultura varia incerta potremmo dire per questo enciclopedica che non vuol dire sistematica chiusa ma che vuol dire figlia dell'incertezza e quindi figlia di una cultura che non si pone confini definiti anche nel tema della classificazione che è stato qui elencato Marzili appare uno che sta che è in cerca di come dire ragione vai disegna per poter classificare ma ovviamente il problema della classificazione era un problema che interessava i naturalisti ma guarda caso anche i filosofi per cui è un problema complicato Marzili arriva e porta a Bologna non la scienza sperimentale c'era già anche se non si insegnava all'università dove facevano altre cose ma i professori universitari per conto loro in questa accademia prima che fosse accademia delle scienze ma accademia degli inquieti coltivavano le scienze sperimentali che cosa mancava? mancava le scienze sperimentali un riconoscimento effettivo e allora se il capolavoro di Marzili è quella della costruzione dell'istituto vuol dire che Marzili aveva coltivato quest'idea a lungo gli era venuta dalle letture non so se leggesse ma gli era venuta dagli scienziati gli era venuta dall'ambito nel quale gravitava in Europa a Bologna non c'è stato mai non si può dire che abbia avuto delle influenze da questo punto di vista bolognesi anche se con i maestri bolognesi era continuamente in corrispondenza ma poi si forma in un'altra situazione quando appunto ordina gli strumenti scientifici o i libri ai librai e a coloro che frequentava a Vienna che frequentava là non altrove quando a Budapest va a prendersi i libri di Mattia Corvino mentre li stavano bruciando eccetera beh in definitiva mostrava questa 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 capacità di mettere insieme le cose che fa a Bologna mette insieme i suoi amici che coltivavano le scienze sperimentali e li porta in un posto questo che lui inventa e per il quale lui costruisce la strumentazione adeguata perché il problema delle donazioni marsiliane e il problema dei materiali che mandava i suoi amici di Bologna era legato a strumenti e a libri cioè a quelle che erano le attrezzature per una modalità culturale nuova per una innovazione secondo me noi dovremmo fare questo partire proprio da questo elemento che in definitiva come spesso accade nei luoghi in cui si nasce non viene riconosciuta una presenza forte di Marsili è perché secondo me a Bologna non viene riconosciuta frequentemente una presenza forte di quelli che ci lavorano facendo innovazioni che volete che porti l'esempio di Marconi Marconi a Sasso Marconi ha provato a scoprire qualcosa ma se ha voluto fare altro è dovuto andare altrove non c'era neanche un laureato a Bologna per cui tutta la storia di Marconi Righi eccetera è una storia un po' inventata era andata a sentire qualche lezione di Righi aveva avuto qualche notizia delle cose che faceva Righi ma per il resto l'ha sperimentato in un universo che non era quello bolognese e a Bologna tant'è che Marconi non ha pensato a Bologna come luogo in cui costruire la sua attività perché era un estraneo rispetto alla cultura ufficiale rispetto all'università e allora da questo punto di vista forse per approssimarsi al centenario dobbiamo provare a rileggercelo insieme io infatti faccio un'osservazione quando dico che era un uno spirito enciclopedico nel senso dell'incertezza che la cultura moderna stava mettendo insieme non era fatta di certezze solo i lettori della scuola di Francoforte dicono che i moderni hanno inventato il capitalismo industriale non è così le cose sono molto più complicate però c'è un punto fermo che nel momento in cui noi riconosciamo a Marsili di essere uno spirito enciclopedico perché uno spirito emergente in tutte le discipline campione però di nessuna noi vuol dire che dobbiamo imparare a fare un'operazione che non abbiamo ancora fatta leggerlo contestualizzando contestualizzando il più possibile la sua riflessione oppure leggerla in rapporto con quello che è venuto un po' dopo senza stabilire problemi di causa e effetto tuttavia ma l'altra cosa è che io ho notato in questi convegni è che noi non abbiamo fatto una lettura interdisciplinare di Marsili qui vai e sale a geologia io e l'Angelini conosciamo il metodo lei conosce come si fanno i libri ma nessuno di noi ha letto con attenzione gli studi dell'altro e forse i risvolti che ci sono nel testo marsiliano bene il corallo bene tutto il resto però il problema che Marsili aveva era quello di trovare un metodo per mettere insieme queste cose era dentro a questo contesto quando va a esplorare il fondo marino lui ha in testa Boyle ha in testa il superamento dell'idea di Boyle secondo il quale il fondo marino era sterminato non aveva confini a Marsili viene in mente che probabilmente nello studio che ha fatto della geologia o delle terre delle acque perché non studiava soltanto una cosa perché va a studiare il Danubio e del Danubio vuol sapere tutto sulle acque sulle origini sulle acque sugli animali sulle vegetazioni vuol dire che sta pensando a una a una realtà complessa a una realtà che va pensata in termini correlati non globali chiusi solo correlati e la correlazione non è facile tant'è che mentre fa queste cose Marsili si inventa anche degli strumenti allora io credo che sia importante se vogliamo arrivare a una costruzione di un Marsili da riproporre anche all'esterno è quella di una lettura in di che sponga la sua baglia di interdisciplina e inoltre che sia una lettura che capisca il rapporto tra l'analitico e il sintetico perché se non si capisce il rapporto tra l'analitico e il sintetico io ti racconto la storia delle miniere che lui analizza ma senza capire il senso di questo racconto è vero che legge Lehmann ma Lehmann era l'autore che traducevano i materialisti francesi erano era l'autore che aveva una una un rapporto molto importante con una costruzione laica delle scienze della terra e lì c'era un problema molto serio sapete meglio di me eh se eh la verità biblica va d'accettata com'è o se invece a proposito della terra facciamo qualcos'altro no? E il pensiero del settecento da questo punto di vista o del primo ottocento aprono ovviamente una una via di di indagine nuova possiamo dire che l'avessi aperta già al Drovandi può darsi ma se soltanto relativamente alle cose di cui si occupava non certamente rispetto a una apertura mentale che era quella che avrebbe costruito il secolo successivo ecco quindi io vorrei concludere con questo è uno straniero in patria sì eh ha contatto per Bologna moltissimo non essendoci ha contato moltissimo eh oggi io l'ho sentito è stato raccontato lo abbiamo scritto l'abbiamo ripetuto cioè a dire aveva qui degli amici con i quali collaborava arriva e mh insiste profondamente sulla riforma dell'università capisce che da lì non passa da lì non passa nessuno neanche oggi quindi non è un problema l'università è destinata secondo le leggi di Cipolla a procedere secondo le generazioni di cretini che inconsapevolmente sceglieranno le generazioni di intelligenti questa è la vicenda che in qualche modo interessa la vita scientifica all'interno poi ci sono anche momenti di grande di grande ricerca laboratori particolari ma occorre investire in idee in danaro e non mi sembra che sia il caso dell'università italiana e quindi il problema è quello di capire esattamente anche il processo di Marsili Marsili arriva e ritiene che debba essere istituita una situazione alternativa a quella che non vuole riformarsi che non ha nessuna intenzione di modificarsi riesce a ottenere a malapena le cose che ottiene attraverso donazioni e il risultato è che appena è finita l'operazione lo mandano via cioè se ne va Marsili se avete visto bene cosa succede quando fa quando gli chiedono di pubblicare il libro sul Danubio Marsili fa fatica persino a venire a vedere i manoscritti che aveva tonato al suo istituto a vedere le immagini le illustrazioni che ha fatto fare e quelle che deve far fare di nuovo è un problema di conflitto che esplode tant'è che Marsili se ne va prova ad affidare l'istituto a Prospero Lambertini poi Prospero Lambertini lo prende sotto l'alla protettiva soprattutto quando diventa pontefice perché l'istituto in quel momento aveva rotto determinati argini era il punto di riferimento in contatto con la cultura europea non l'università l'istituto Galvani quando ha voluto scrivere sulla elettricità animale non lo ha fatto mentre insegnava all'archicinasio lo ha fatto qua in questo posto sperimentava casa sua sì ma sperimentava secondo modalità che erano quelle legate ai laboratori che non a caso erano uno vicino all'altro non erano distanti lui lavorava con i medici ma anche con i chimici perché erano nella porta a fianco di sopra quando si facevano le ostenzioni quindi il problema è quello di recuperare la capacità innovativa di Marzili che è anche nei suoi scritti e che è quella che ha determinato un passaggio cruciale a Bologna poi si dirà ma il passaggio cruciale viene compiuto con la riforma dell'università che Napoleone fa nei primi anni dell'ottocento sì è vero soltanto che lo schema in Accademia e Istituto intanto è uno schema già mutuato dalla cultura tedesca ma è uno schema che consente a Napoleone di istituire a Bologna le facoltà scientifiche perché c'erano già c'era già la strumentazione tant'è che la strumentazione dell'Istituto Marsigliano viene smembrata e dispersa non dopo tanto dopo il 1860 ma ancora prima i laboratori vengono affidati agli istituti scientifici che Napoleone pensa dovessero essere il fulcro dell'università aveva una mentalità politecnica Napoleone quindi voglio dire agiva secondo questi schemi ecco io credo che uno contributo che noi possiamo dare a una alla costruzione di un centenario che non sia l'improvvisazione di pubblicazioni di convegni è proprio questo far capire e portare a maturazione quello che l'innovazione comporta Marsigli è un esempio non è l'esempio è un esempio di come si possa produrre un'innovazione che trasforma ha dovuto aspettare Napoleone sì ho capito ma l'Accademia delle Scienze era diventato il luogo dei rapporti internazionali tant'è che noi in occasione del centenario oltre a avere la possibilità io lo farò per quanto compete la mia sopravvivenza in questa Accademia ma oltre ad avere la necessità di avere i contributi di ricerca e quindi ricerche che si muovono è anche quella di sottolineare con forza facendo una cosa che noi abbiamo trascurato in tutti questi anni in tutti questi anni intendo dire da metà del settecento noi siamo stati destinatari degli atti delle Accademie Europee quando io sono arrivato qua negli armadi di questa Accademia ho trovato in disordine gli atti delle altre Accademie che ci stanno ancora arrivando Accademie molto importanti per cui noi costruiremo in questo caso una biblioteca dei rapporti con le Accademie se voi andate quando abbiamo dovuto fare l'elenco dei libri dell'Accademia di Bologna siamo dovuti andare a cercarlo sulle reti internazionali perché qui non c'è non c'è nell'Accademia non c'è nella nostra biblioteca universitaria non esiste quindi abbiamo fatto molto su Marsili nel senso che ci sono state due generazioni che si sono applicate allo studio di Marsili e quindi siamo in grado probabilmente di cominciare una fase nuova i più giovani per quanto mi riguarda io se posso mi vado a riguardare il Danubius e di Stoar Fisicchi della Merce lo ha a casa quindi me la guardo quando voglio ma perché proprio il problema dell'integrazione va tra l'immagine la descrizione del testo e il metodo poi il metodo glielo tira fuori Boerav quando fa l'introduzione ma Boerav non inventa niente Boerav sapientemente tira fuori quello che Marsili ha fatto l'analisi e la capacità di sintesi l'osservazione gli esperimenti e la capacità di traduzioni in coaguli teorici matematici ma non solo matematici ecco questo è il dato che probabilmente dobbiamo fare poi c'è una dimensione che oggi è stata emersa con grande forza ed è la dimensione delle relazioni storiche dei rapporti io Ricci vorrei fare ripubblicare il libretto sul caffè perché è un libretto strepitoso di cui il compianto socio dell'Accademia Mazzotta ha fatto un'edizione qualche anno fa secondo me andrebbe ristampato distribuito agli accademici ma non solo a loro è fatto leggere perché è un libretto direi compiuto compiuto dove c'è la sua storia da contarsi da Costantinopole alla prigionia turca se ricordo bene il testo credo di ricordarlo molto bene perché quando ho letto ho provato un grande piacere a leggerlo ecco io vorrei concludere in questo modo proviamo a vedere quali sono le modalità attraverso le quali ricostruiamo tre elementi uno che i contesti storici cambiano rapidamente siamo già molto in ritardo sul futuro secondo che le relazioni sono fondamentali che non è possibile chiudersi che le relazioni sono fondamentali in terzo luogo che bisogna avere anche il coraggio di innovare anche a costo di mettere in crisi le vecchie istituzioni io credo che per esempio nella nostra situazione nazionale centri di ricerca autonomi rispetto all'università sarebbero graditi lo sta dicendo a piena voce il nostro premio Nobel Parisi sta facendo interviste esclusivamente su questo Parisi conosce bene le università e le accademie e sa che le università e le accademie possono fare molto ma non tutto quello che è necessario oggi è già cominciata una fase nuova proprio in queste settimane ci stiamo ponendo in un seminario che facciamo quello che si chiama confini ci stiamo ponendo come utilizzare gli strumenti vecchi e rinnovandoli per una situazione nuova abbiamo esaminato in qualche altro convegno il rapporto tra l'intelligenza artificiale e l'etica avendo idee confuse sia sull'etica che sull'intelligenza artificiale ma entrambe non sono confuse nella nostra vita quotidiana perché nella vostra nella nostra vita quotidiana utilizziamo già strumenti di cui non conosciamo bene la potenzialità e usiamo regole che tentiamo disperatamente di innovare ma non è detto che noi riusciremo a farlo vi ringrazio per aver assistito al convegno e anche per aver ascoltato questa mia riflessione di ordine generalissimo sulle cose però al centro della nostra attenzione c'è Marsili ma al centro di Marsili c'è la capacità di produrre innovazione in una in una società nella quale gli strumenti vecchi e nuovi si combinano si combinano e ci stanno pensate soltanto a una cosa che a me appassiona alla sopravvivenza delle tecnologie si dice che sono le tecnologie tramontano rapidamente io mi sono occupato delle origini dell'elettricismo ho parlato a lungo con gli esperti di elettricità eh contemporanei mi sono reso conto che stiamo utilizzando una tecnologia che è stata messa a punto nella prima metà dell'ottocento senza l'energia elettrica non fate funzionare senza le batterie né i computer né i telefonini né gli strumenti tecnologici più avanzati chi nega chi può negare però che l'elettricità è una scienza che nasce nel settecento in quanto tale e che raggiunge la sua possibilità di essere impiegata nel tardo ottocento noi la impieghiamo così come allora riusciamo a produrne di meno dovremmo avere altre fonti energetiche ma il punto è questo stiamo ci stiamo avvalendo di tecnologie anche eh come dire maturate nel tempo profondamente modificate perché credo che Ampere non riuscirebbe a discutere oggi con Carlo Alberto Nuzzi di il nostro esperto di materia elettrica che sta in ingegneria e quindi l'esigenza è questa il ruolo di un'accademia oggi è quello di far capire se riesce a farlo non avendo eh il peso della didattica e della ricerca quali sono le modalità attraverso le quali l'innovazione cammina poi l'innovazione cammina con le sue gambe ma tra quali sono gli elementi come dire che precostitutivi ecco di una innovazione Marsili lo ha indovinato Marsili lo ha anche fatto poi si è trovato a essere come dire messo a margine della sua accademia devo dire che probabilmente la sua accademia avrebbe potuto fare molto di più poi ha trovato un grande protettore in Benedetto XIV e non sto qui a dire perché a Benedetto XIV interessasse molto la l'Istituto delle Scienze piuttosto che non l'Università ma il punto è questo arrivare al centenario avendo fatto capire bene che Marsili ha aperto una strada che se non si continua a procedere in questi termini non si apre e gli elementi per l'apertura io non ne conosco molti oggi si addensano le riflessioni sul futuro le stiamo facendo anche noi presenteremo qui tra poco la rivista di Lucio Caracciolo che uscirà con il titolo Futuro e apriremo una discussione quindi anche noi su questo ma è già in corso anche altrove ma futuro per il momento è una parola progresso è una parola che sta tornando di moda ma chi la usa senza fa senza cautele rischia di finire dove è finito il progresso del tardo illuminismo e del tardo ottocento cioè in un mondo nel quale si pensava di poter dominare tutto alla fine questo non solo non è stato possibile ma talora è stato anche dannoso vi ringrazio continueremo queste e vi ringrazio anche di essere con noi in questo cammino alcuni di noi lo percorreranno eh fino in fondo altri probabilmente no ma l'importante è cominciare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti